Ciao a tutti e bentornati ad Altrimenti Merendiamo, la televisione degli imprenditori arrabbiati. Oggi parliamo della mentalità vincente secondo Dan Kennedy. Voi direte, cosa c'entra la mentalità vincente con Dan Kennedy? E avreste ragione a porre questa domanda. In realtà, perché tutti lo conoscono chiaramente come l'esperto del direct marketing, del marketing a risposta diretta, del copywriting, è giustamente così. In realtà, nel corso degli anni, Dan ha creato, diciamo, c'è tutta una sua produzione che è leggermente più underground, diciamo, chiamiamola così, di informazioni, di strategie che hanno a che fare con il giusto mindset per ottenere risultati dal punto di vista imprenditoriale e dal punto di vista semplicemente produttivo, ok? Quindi è chiaro che Dan Kennedy non è un motivatore, anzi, si discosta in maniera abbastanza rude da tutte quelle scuole tradizionalmente legate alla motivazione. Quindi se aspettate, non so, delle frasi motivazionali sui valori, cose del genere, a Tony Robbins, no, cioè non faremo una diretta su queste cose perché Dan non c'entra niente. Quindi questa sera non parleremo della mia mentalità vincente. In realtà, ho cercato di riassumervi in alcuni punti fondamentali quelli che secondo me sono i passaggi fondamentali che Dan ha messo in fila nel corso degli anni e che io chiaramente ho anche applicato, ok? Però sono proprio i punti suoi. Io faccio un po', diciamo, l'esegeta, chiaramente, del suo pensiero questa sera e cerco di tradurvelo un po', di adattarvelo e di rendervelo comprensibile, ok? Perché alcune volte Dan è molto ostico e la gente non riesce a leggere tra le righe, prende le cose in maniera un po' abrasiva e ci rimane un po' così, ok? Quindi Dan non è una persona dall'atteggiamento molto motivazionale, è un misantropo e non è assolutamente giusto per chiarirsi una persona vicina ai concetti della legge di attrazione, della visualizzazione, che se ci credo molto molto forte poi sotto al materasso materializzerò un assegno e tutto è quello che, se penso, se attacco la foto della Ferrari al garage e la guardo intensamente, tutto il tipo The Secret, no? Quella roba lì, ok? Quindi siamo abbastanza lontani da quel tipo di atteggiamento. Quindi ragazzi, per chi di voi magari, non so, si avvicina la prima volta e si aspetta un certo tipo di informazioni, sappiate che non parleremo di quelle cose, quindi non vi consiglio di guardare questo video, di assistere a questa diretta, se siete in diretta o se lo state riguardando, perché Dan è abbastanza abrasivo, che dal punto di vista della sua filosofia di vita, ok? È la filosofia di vita di un misantropo tendenzialmente, quindi non è... il suo mindset vincente non ha molto a che fare con la motivazione intesa in termini classici, ok? Allora, prima mi è stata fatta una domanda tra le righe, che era, quando ho lanciato la diretta, mi hanno fatto una domanda su Instagram, mi hanno chiesto proprio, ma cosa si intende per mentalità vincente? E questa in realtà è un'ottima domanda in realtà, partiamo a rovescio, partiamo con questa domanda per aprire in realtà il nostro video. Cioè, mentalità vincente cosa significa, ragazzi? Significa avere quella mentalità che ci porta realmente a concretizzare dei risultati e non semplicemente ad avere dei sogni, no? O degli obiettivi teorici. Questa è tutta la differenza. Cioè, una mentalità realmente vincente è quella mentalità per la quale io ottengo i risultati. Se non ottengo i risultati, non ho una mentalità abbastanza vincente. Voi potreste obiettare, ma magari ho la mentalità vincente e non ho le skill. Vero, cioè non ho le abilità. Vero, ma se hai una mentalità vincente, vai a recuperare le abilità e poi ottieni i risultati. Quindi, la mentalità vincente, ragazzi, è qualcosa che a differenza degli altri tipi di approcci, no? Dove io parlo di tutta una serie di cose, la vision, la mission, i miei valori, che sono cose assolutamente importanti. Non sto negando, ragazzi, guardatevi, vi sto solo riportando un pensiero di Dan, ok? Però tutte queste cose sono abbastanza intangibili. Dan, per mentalità vincente, intende proprio qualcosa che sia misurabile. Segnatevela questa cosa. Cioè, nel senso, nel corso del nostro video parleremo di questa cosa, di misurare i risultati, misurare i task, misurare le azioni, misurare gli obiettivi, più e più volte, ok? Questo nasce già dalla mentalità. Cioè, nel senso, voi, come fate a sapere se in nuce avete già una mentalità vincente o no? È molto semplice. Se avete fino ad oggi realizzato gli obiettivi che vi eravate preposti per la vostra vita, avete una mentalità vincente. Altrimenti no. Ok. Ve l'avevo detto che, insomma, in questo video non è proprio carino, gentile, le motivazioni, ma è den. Cioè, non stiamo parlando della fata turchina, ok? Quindi è molto semplice. Cioè, mentalità vincente significa riuscire a realizzare gli obiettivi. Se non ci riesco, non ho una mentalità vincente. Ho dei blocchi, ho tutta una serie di limiti. Significa che non sono un vincente in questo momento. Non è che la devo prendere come un'offesa. Non è che... E quindi sono uno sfigato e sono inguaribile. No. Ok. Non è così. Ok. Non è che... Perché la gente dice, ah no, allora dendi... No, non dice così. Dice semplicemente che la mentalità vincente, e l'essere vincente si può misurare, ok? Si può misurare, scusate. Cioè, nel senso, se tu hai 30 anni, se tu hai 20 anni, se tu hai 40 anni, ti sarai dato degli obiettivi, no? O hai vissuto... Magari no. Nel senso, magari c'è l'esempio estremo dove tu sei figlio dei fiori e vivi la vita giorno per giorno, ma non fa parte del mio pubblico. Nel senso, dovrei stare parlando con degli imprenditori o dei wannabe imprenditori, quindi nella media, è gente che dovrebbe essersi data degli obiettivi. Non sto parlando con dei disoccupati, dei figli dei fiori, ok? O dei dipendenti che magari si sono dati, sì, degli obiettivi di vita, ma legati a una programmazione, perché hanno quel tipo di guadagno, hanno quel tipo di introito tutti i mesi, e quindi non è che spostino i loro obiettivi in maniera... o si possano dare degli obiettivi eccessivamente diversificati, non potendo cambiare il loro lavoro, non potendo modificare, in realtà, la loro fonte di guadagno, se rimangono lì. Chiaramente, un dipendente non è che è un'offesa, cioè, nel senso, non è un albero che hai le radici, tu puoi fare il dipendente domani e lo fai per tutta una serie di motivi, perché in quel momento della vita ne hai bisogno, perché in quel momento della vita hai bisogno di recuperare da certe situazioni, perché hai bisogno di un certo tipo di stabilità, perché devi fare tutta una serie di cose, e poi magari ti lanci una tua impresa, quindi non è che se sono un dipendente sono scemo, anzi, io vengo da famiglia generazione di dipendenti, ok? E tutte persone straordinarie, bravissime, molto migliori di me, quindi cercate di capire cosa intendo quando vi dico le cose, ok? Quindi, il dato importante, ragazzi, è proprio questo, cioè, DNA Brasil, uso questa cosa, cioè, mentalità vincente vuol dire che tu, se hai 30 anni, hai realizzato tutte le cose che ti eri stabilito di fare fino a 30 anni, se hai 40 anni, se hai 50 anni, se sei uguale, ok? Però che cosa significa ottenere risultati? Non è che sia legato esclusivamente a un concetto economico, no? A un concetto di business, nel senso che ognuno di noi, ok? Cioè, apriamo un attimo questo concetto, io posso, in realtà, una mentalità vincente mi permette di ottenere i tipi di risultati che per me sono importanti, ok? Su questo non c'è giudizio, non è da parte mia, non è da parte di Dan, cioè, nel senso, tu puoi anche, cioè, quello che voglio farvi capire, ragazzi, non è un problema di risultati, devo fare denaro, devo curare l'azienda, devo fare ricco, queste cose, non è necessariamente questo, ok? Non è l'ambizione economica necessariamente, è solo l'ambizione imprenditoriale, cioè, anche se volete diventare santo o illuminato, no? Come i buddhisti, vi serve una mentalità vincente, cioè, vi serve una disciplina, cioè, non si diventa illuminato se andate in giro come i figli dei fiori andate a pescare, fate quel cazzo che vi pare, cioè, per assurdo, ok? Anche diventare un illuminato, adesso, nel cristianesimo questa cosa non esiste, perché l'unico vero illuminato in realtà è Gesù, sì, ci sono poi i santi, tendenzialmente, ma quindi, no, si capisce, col concetto dei santi si capisce, ok? Cioè, è tutta gente che si è fatta al culo, si è sacrificata, cioè, la maggior parte dei santi, moltissimi santi, sono anche martiri, ok? Quindi, è gente che ha sacrificato tutta la vita verso uno scopo, quindi, capite ragazzi, che non è solo un problema di raggiungere i risultati con l'azienda, è anche un problema di, ok, io, anche solo spiritualmente, mi devo fare il culo, cioè, se io volessi fare il monaco buddista e raggiungere il nirvana, l'illuminazione, diventare bodhisattva, poi Buddha, ma ok, è uguale, cioè, per Dan non cambia, cioè, il livello di dedizione che io devo portare, devo ottenere, per ottenere questo tipo di risultati, non cambia rispetto a, io voglio creare un'azienda, oppure, io lo posso fare a livello completamente spirituale, lo posso fare, voglio creare una multinazionale, voglio avere un'azienda, non so, grande, quotata in borsa, oppure, ho degli altri obiettivi, per esempio, voglio, non so, voglio ottenere, comunque, non lo so, un'indipendenza finanziaria, un equilibrio famiglia-vita-lavoro molto importante, ognuno ha i suoi ragazzi, non c'è da giudicare, ok, il problema è che qualunque sia questo obiettivo, non c'è la strada facile, cioè, per Dan è molto importante chiarire questo passaggio, cioè, qualunque obiettivo tu voglia ottenere, non è che, perché la gente ha questa malcomprensione, cioè, se tu punti al denaro, devi essere una persona con la pellaccia, sì, anche se vuoi farlo in maniera più o meno delinquenziale, ma non è quello il punto, cioè, tu devi avere la pelle dura, Dan la chiama il tech skin, per ottenere qualunque tipo di risultato, cioè, ne abbiamo detto prima, cioè, i santi sono martiri, in media, cioè, gente che si è martirizzata per la causa, quindi, molto più che avere la pelle dura, cioè, nel senso, è gente che si è fatta ammazzare, si è immolata, si è lasciata morire, eccetera, eccetera, o si è dedicata tutta la vita a una causa contro della gente che, in realtà, gli dava contro, ok? Così com'è, cioè, non è che io divento illuminato, perché faccio il buddista, mi metto sulla montagna, non faccio un cazzo, vent'anni e divento illuminato, non è proprio così, ok? C'è tutta una serie di procedure, riti, rituali, ok? Meditazione, eccetera, eccetera, che anche se non sto tirando, magari, su della ghisa, però, in realtà, sto sacrificando completamente la mia vita al raggiungimento di uno stato emotivo, spirituale, emozionale, ok? Ma proprio, cioè, nella sfera alta, nella spiritualità, sacrificando tutto me stesso, quindi non è che lo faccio, divento un genio, semplicemente, cioè, tradotto, faccio quel cazzo che mi pare nella vita, ragazzi, va benissimo, io non lo giudico, Dan non lo giudica, ma non funziona per ottenere risultati, e questo è un problema per la maggior parte delle persone che hanno questa malcomprensione, per esempio, ci sono delle persone che non capiscono, e ve lo dico proprio senza nessun tipo di critica, che, allora, non esiste differenza, in realtà, da, in termini di difficoltà, in termini di impegno, e in termini di, proprio difficoltà, anzi, forse è più difficile quella che sembra meno difficile, creare una grande azienda strutturata, e creare un'azienda più piccola, tendenzialmente, che magari sta in piedi comunque da sola, e che mi permette di gestire la mia vita, i miei hobby, la famiglia, sto con mio figlio, cioè non sto giudicando questa cosa, il problema è che la maggior parte delle persone che va in questa direzione, cerca di farlo con la pigrizia, cioè, parte con l'assetto mentale sbagliato, la mentalità da perdente, cioè, io non voglio farmi il culo, quindi mi accontento dell'equilibrio, comunque, mi faccio bastare questi guadagni, ok, non funziona così, ok, non realizzerete niente, non realizzerete niente comunque, ok, cioè, per realizzare questa cosa, anche se i guadagni sono in un'altra parte, è altrettanto, se non più complesso, che realizzare la grande azienda, perché la grande azienda, più la struttura in realtà, più sta in piedi da sola, perché ci sono persone, in realtà, il vero segreto, ragazzi, è che l'azienda piccola, è un bagno di merda, perché con poche persone, sei sempre a rischio, ok, il lavoro è sempre troppo, se ti va via uno, se ammala uno, c'è un casino, c'è un colo di bottiglia, l'azienda rischia di saltare la mattina e la sera, quelle poche persone, comunque, per quanto tu te le voglia tirare su d'adosso con la delega, comunque guarderanno a te, quindi in realtà, per assurdo, far crescere l'azienda, è la strategia per diventare indipendenti, e per creare, quel tipo di serenità, famiglia, lavoro, eccetera, eccetera, e infatti, non l'ho fatto con l'azienda piccola, per condividere il mio punto di vista, queste cose ce le ho, c'è l'equilibrio famiglia, hobby, lavoro, eccetera, eccetera, in senso, io sono, sapete, sono in pensione, ok, sono in pensione da giovane, perché ho creato l'azienda grande, l'azienda grande è stabile, e può essere lasciata da sola, l'azienda piccola, la gente ti viene a prendere, perché sei sempre tu al centro dell'attenzione, perché non ci sono abbastanza persone, non ci sono abbastanza ruoli, non ci sono abbastanza figure intermedie, non ci sono i manager, non ci sono i direttori, quindi, Dan spiega questa cosa, cioè, con la pigrizia si fa un cazzo, ok, cioè, quindi ragazzi, segnatevi questa cosa, ok, cioè, con la pigrizia non si ottengono tendenzialmente risultati, questo è il primo concetto della mentalità vincente, quindi la mentalità vincente è, devi essere votato al sacrificio totale, fino a che non hai ottenuto il risultato, poi quando hai ottenuto il risultato, puoi anche andare in pensione, puoi anche smetterla, poi c'è, dipende qual è il tuo risultato, ognuno c'è i suoi, come abbiamo detto prima, il problema è che esiste, cioè, non si riesce a ottenere nessun tipo di risultato con l'atteggiamento 50-50, cioè, finché non hai ottenuto quel risultato, è all in, questo è il dato, ok, quindi ragazzi, è completamente, se no, non partire neanche, perché non ce la fai, perché non ce la fai, ok, bene, questo vale per le cose grandi, vale per le cose piccole, ok, eccetera, 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 allora, vi cerco, vado dentro, ok, vi mostro un pochino di punti sintetici di Dan, ok, e ve li spiego, cioè, che cosa è importante per lui, allora, come si fa in realtà, cioè, da dove parte una mentalità vincente, allora, vediamo se riesco a mostrarlo, la mentalità vincente, sì, ce l'ho, ok, parte dal fatto che tu devi avere, dei, la tua vita, in realtà, la tua azienda deve essere gestita costantemente per macro obiettivi e micro obiettivi, che cosa sono e che differenza c'è? Allora, significa ragazzi che qualunque tua attività, qualunque tua impresa, qualunque modello di impresa, devi avere dei macro obiettivi, quali sono i macro obiettivi, sono obiettivi di base annuali, ok, che puoi suddividere, dal punto di vista imprenditoriale, in obiettivi semestrali, in obiettivi trimestrali, magari in obiettivi anche mensili, però sono i macro obiettivi, ok, quindi sono gli obiettivi annuali, e quindi tradotto, per esempio, per stare sulle cose più semplici, più concrete, io li devo scrivere, cioè nel senso, non è che posso non averli, devo avere i macro obiettivi, e Dan dice, e bisogna che li metti giù, cioè è come uno script, ok, non c'è, cioè, l'autogestione, ok, Dan dice sempre questa cosa, non esiste per me, differenza, e questa è una cosa bella, segnatevela, perché questa è una delle intuizioni di Dan, che secondo me è veramente geniale, dal punto di vista della crescita personale, Dan dice, non esiste differenza tra hard skill e soft skill, cioè che cosa intende, lui dice questa cosa, cioè non è che io, quando lavoro con il copywriting, per esempio, con il marketing, è la mia hard skill, cioè, sto facendo qualcosa di concreto, e invece, quando devo programmare la mia giornata, programmare l'azienda, ok, programmarmi a livello personale, darmi l'autodisciplina, quelle sono soft skill, la motivazione, quelle non sono soft skill, sono skill, cioè sono abilità, uguali, e si basano su processi, e si basano su mettere giù le cose, scriverle semplicemente, e agire, ok, quindi macro obiettivi, diamoci dei macro, siamo tra imprenditori, ok, cerchiamo di capire, macro obiettivi, cosa sono probabilmente, se parto dal marketing, e vengo giù fino a, all'amministrazione dell'incasso, no, quindi parto dal marketing, e poi vengo giù, facciamo tutto il giro, no, il nostro codice, no, metodo merenda, prendiamolo così, allora, x numero di, o aumentare, cioè nel senso, aumentare fino a x numero di, per esempio, lead, ok, base anno, io dovrò sapere, la mia azienda, il mio marketing deve produrre lead, ok, bene, quindi, il numero di lead da produrre, il numero di vendite, e il fatturato, perché, perché sì, la vendita e il fatturato non è sempre legato, perché dipende a che prezzo vendi, ok, magari tu hai dei venditori che vendono tanto, ma stanno facendo troppi sconti, quindi, non è così banale, cioè sono dei KPI, cioè quindi degli indicatori di performance, che tu devi tenere tutti sotto controllo, quindi lead come si trasformano in vendite, le vendite come si trasformano in fatturato, il fatturato come si trasforma in utili, cioè nel senso, la marginalità che io tengo attaccata, ok, quindi che tipo di margine io tengo, quindi voglio darmi un quantitativo di utili, che la mia azienda deve produrre quest'anno, e poi che cosa mi do ancora, al quinto punto mi do il cash flow, quindi il flusso di cassa, perché non me ne faccio niente degli utili, se ho tutti dei crediti fuori, cioè non ho incassato, adesso alcuni modelli di business, ragazzi il bar non c'ha crediti fuori, nel senso che uno arriva al caffè, ti paga, ti dà l'euro, oggi l'euro e venti, insomma quello che è, non lo so, e siamo pari, però ci sono le attività, per esempio nel B2B, che lavorano con la fattura, quindi vengono pagate magari con 15, 20, 30, 60 giorni, insomma sapete come funziona meglio di me, e quindi devono darsi un obiettivo di gestire costantemente, controllare l'incassato, ok, questi sono gli obiettivi, altri obiettivi che mi posso dare, per esempio, è il numero di persone inserite, base anno, quindi quanti collaboratori nuovi ho inserito per far crescere la mia azienda, cioè questi ragazzi sono i macro obiettivi, io me li devo scrivere, la mia mentalità è vincente, e adesso facciamo questa roba, ok, poi ci sono i micro obiettivi, cioè micro obiettivi che cosa sono dal punto di vista di Dan, sono gli obiettivi che io mi devo dare quotidianamente, cioè la mia giornata non è a caso, e oggi ne parleremo in maniera specifica, la mia giornata è schedulata, è completamente programmata, io la devo scrivere, cioè io dalle 8 alle 9 faccio, quando arrivo a lavorare, non so ragazzi quando cominciate voi, per dire, dalle 8 alle 9 faccio questo, alle 9 alle 10 faccio questo, ogni ora, ogni fascia oraria, secondo me, voi dovete sapere esattamente che cosa dovete fare, e lo dovete fare, la mentalità vincente è questa, voi dovete sapere per ogni ora che cosa dovete fare, e dovete farlo, punto, e non ci sono scuse, e non ci sono cazzi, e non ci sono distrazioni, e non ci sono matizio, e non ci sono, mi ha chiamato il cliente, non ci sono, è mai venuto quello del fornitore che voleva parlare, non c'è niente, cioè nel senso che, se voi volete ottenere gli obiettivi, la giornata è schedulata, fine, nessuno, ci sono due aspetti, uno, mentalità vincente, si dire in queste due cose, da questo punto di vista, uno, voi dovete fare le cose, cioè ve lo dovete imporare, la disciplina, mentalità vincente significa perché io sono disciplinato, cioè se voi avete, la determinazione, l'intenzione, cazzo, di una meba, cioè avete la soglia d'attenzione di un pesce rosso, cazzo, che dopo nove secondi siete distratti, voi non potete fare l'imprenditore, se in quell'ora, ok, dovete andare all in, a fare quella cosa, secondariamente, non c'è solo la vostra intenzione, irrevocabile nel farlo, ok, cioè mi metto lì, dico, non so, ragazzi, dico per dire, ok, io dalle nove alle dieci della mattina, scrivo le email, ok, che usciranno con il broadcast nella giornata, dico per dire, faccio un esempio, io dalle nove alle dieci scrivo quelle quattro email, morisse qualcuno, io dalle nove alle dieci venisse a fuoco l'azienda, io scrivo quelle quattro email, ok, dalle dieci, devo parlare con dei clienti, faccio le trattative, faccio le trattative, devo fare quello che deve essere fatto, ok, ho i colloqui con i collaboratori, a seconda di quello che devo fare all'interno dell'azienda, secondo il mio modello di business, ok, ma il secondo punto, che è quello che tutti sottovalutano, è che la mentalità vincente non è solo, mi impongo di farlo e lo faccio, il secondo punto è, evito che ci siano distrazioni, cioè che chiunque altro, che io possa usare, chiunque altro come scusa, un collaboratore che viene, un cliente che viene, un fornitore che, ma l'imprevisto, non ci sono imprevisti collaboratori, scusi e cazzi, non ci sono, dendi su questa cosa, se voi questa cosa non ve la mettete via, siete dei perdenti, sempre non ragazzi con accezione negativa, ma bisogna che lo accettiate, ok, cioè se o voi avete risultati, o avete scuse, se le scuse sono sempre, è volevo fare questa cosa, ma è successo che, è successo che sto farvi cazzi, punto, punto, a me non succede, per esempio, vi spiegherò come faccio, ok, vi spiegherò come, non è che sono superman, non è che sono superman, ok, faccio esattamente quello che mi ha insegnato Dan, da questo punto di vista, ok, e lo condividiamo insieme, stasera gratuitamente, che riguarda un po', ok, bene, quindi, ma scrivere, ok, macro obiettivi, per la mia azienda, per la mia attività, micro obiettivi, bene, ci siamo, allora, poi che cosa c'è? Il concetto di, come stavamo dicendo giustamente, no, quindi, nei micro obiettivi, c'è il concetto di programmare la giornata, quindi, cosa significa programmare la giornata, ok, quello che vi ho appena detto, cioè, devo fare un'altra cosa, devo prevenire, le cose che potrebbero succedere, e distrarmi, allora faccio, faccio questa lista, ok, questa lista si chiama, in azienda, e, mi insegno, il famoso, è un corso di delega gratis, in cinque secondi, vi spiego come funziona, allora, funziona così la delega in azienda, se succede questa cosa, le dovete scrivere tutte, però poi, magari non ce l'ha fatta al primo giorno, perché capiteranno delle varianti costantemente, ma le aggiungerete al manuale, e questo è il manuale che dovete consegnare ai vostri collaboratori, se succede questo, non mi dovete rompere il cazzo, se ne occupa tizio, se succede quest'altro, non mi dovete chiamare, se ne occupa lui, eh, ma se va a fuoco l'azienda, chiamate i pompieri, io che cosa ci posso fare, cioè, dopo che mi avete chiamato, ti sembro un cazzo di pompiere? Guardami in faccia, ti sembro un pompiere? No, ma se tizio sviene, chiamate un'ambulanza, io che cosa ci posso fare, ok, che cosa ci posso fare? Eh, ma ha chiamato quello della finanza, chiamate il commercialista, io non sono, non sono un esperto, ok, io devo fare le mie cose, se non faccio le mie cose, l'azienda fallisce, chiamate il nostro commercialista, chiamate il nostro revisore contabile, ci parlerà lui, ok, ha chiamato quello della banca, ci parla l'amministrativo, non ci devo parlare io, io non parlo con il tizio della banca, ok, a meno che non mi voglia dare dei soldi, ok, non parlerà col mio amministrativo, cioè non c'è niente, in realtà, che io debba fare in azienda, che non ho schedulato, voi vi dovete dare questa regola, e non tradirla mai, io devo fare delle cose, io oggi faccio quelle cose lì, altre cose non le faccio, e quindi non solo programmo la giornata, programmo tutte le giornate a venire, cioè la giornata di domani, deve essere programmata, le persone devono sapere, ragazzi, io domani faccio questo, lo devo dichiarare, ok, do il mio calendario alle persone, io domani faccio questo, 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 quest'altro, nessuno mi deve rompere la wallera, ok, questo è il manuale, se succede questo, se ne occupa tizio, se ne occupa Caio, se ne occupa sempre, abbiamo finito di parlare, abbiamo finito di parlare, ma tizio il cliente ha detto che, parlate con l'avvocato, io non voglio neanche sapere, guarda il mio ufficio legale, io non voglio neanche sapere, ma tizio ha detto che, parlerà col mio ufficio legale, io non ho tempo, devo lavorare, devo fare le cose, ok, non ho tempo, non ho tempo, l'imprenditore è così, cioè l'imprenditore, questo significa delegare, è scegliere le persone, che sanno fare le cose, poi dopo ne parliamo, ok, e dargli le cose da fare a loro, fine, guardate che non è più difficile di così, solo che voi siete in un incubo, in un'allucinazione mentale, per la quale, voi volete essere presenzialisti, a qualunque scemenza, che non ha nulla a che fare con voi, perché voi non avete le competenze, in realtà che servono, per fare quelle cose lì, ok, lo stavo scherzando, nel senso, va fuoco l'azienda, ma io non sono un pompiere, chiamate i pompieri e spegnete l'incendio, no, non è vero, abbiamo fatto un'azienda del corsi antincendio, e anche io devo essere in grado di spegnere, però è per farvi capire, ok, cioè nel senso, se no ragazzi, se voi non mettete, non cominciate a mettere queste regole, e non dico che funzioneranno sempre al 200%, ma se voi non le mettete, non mettete uno steccato, tranquilli che voi, sarete sempre dei perdenti, perché, perché meno siete, più la gente arriva addosso, ok, perché si sente autorizzata a venire da voi, tirarvi per la giacca, tirarvi in mezzo, a risolvere cose che non sono roba vostra, cioè uno ha un ruolo in azienda, e deve svolgere quel ruolo lì, se no non avrei dei dipendenti, non avrei dei collaboratori, a cosa servite, vi sto pagando, ok, questo è il dato, ok, quindi la giornata, e la vita aziendale in realtà, va programmata, punto, ok, quindi dovete fare proprio il manuale, questo è il manuale della delega, è proprio questo, ok, cioè se succede questo, se ne occupa tizio, o chiamate tizio, ok, se succede questo, se ne occupa caio, se ce l'abbiamo all'interno, o chiamate Sempronio, se è un professionista esterno, non chiamate me, non ci sono emergenze, per le quali siete autorizzati, a chiamarmi, perché voi mi distraete e basta, volete mangiare ancora domani, risolvete la situazione, perché se io non faccio queste cose, tutti i giorni che ho schedulato, l'azienda non cresce, gli stipendi non ve li pago, e le bollette non si pagano da sole qua dentro, ci siamo ragazzi, il dato è proprio questo, ok, il dato è proprio questo, bene, allora, andiamo avanti, questa è la cosa più importante, questi sono i tre punti più importanti, che voi dovete stabilire all'interno dell'azienda, per gestirla, ok, allora il dove lavori, il come le persone possono interagire con te, e chi può interagire con te, allora, adesso li spiego, allora, il dove lavoro, è importante, nel senso che, dipende che cosa devo fare, ok, se ci sono delle attività, come ci sono tante attività, che io devo svolgere con i miei collaboratori, sto con loro, cioè nel senso sto in azienda, non so, devo lavorare con i miei ragazzi del copy, dove starò? Starò nell'ufficio del copy, con la nostra tavolona rotonda, parliamo, devo stare a guardare le campagne con i ragazzi della marketing automation, sto in ufficio da loro, ci mettiamo lì e parliamo, o Zoom e tutte queste cose, ok, devo fare una riunione con i venditori, starò con i miei venditori, devo fare una, cioè, sto con loro, è ovvio che sia così, ok, quando però non sto facendo delle attività programmate, ok, per stare con i miei ragazzi, ragazzi, segnatevi questa cosa, perché è la cosa più importante che voi possiate capire da quello che vi sto dicendo, ragazzi, non vi sto dicendo che dovete fare gli eremiti, vi sto dicendo un'altra cosa, vi sto dicendo che ci sono delle attività che voi dovete svolgere, e costantemente, fossero anche solo delle riunioni un po' motivazionali, dare un po' di attenzione ai vostri collaboratori, ci mancherebbe, ci sono però delle attività che voi avete programmato all'interno dell'agenda, e quelle attività sono in azienda, e sono in mezzo ai vostri collaboratori, ok, poi ci sono delle attività, magari a livello personale, per esempio dovete scrivere dei pezzi di copy, magari, dovete analizzare il bilancio, i KPI, avete bisogno di essere concentrati, perché dovete incrociare tanti dati, le tabelle dovete capire, e tutte queste cose, ok, dovete progettare una campagna di marketing, non lo so, nel vostro lavoro dovete semplicemente fare un po' di ricerca e sviluppo, progettare un nuovo prodotto, pensare a un nuovo servizio, ok, bene, tutte queste cose, prevedono il fatto, che voi siate indisturbabili, quindi dovete essere inaccessibili, allora, se, l'essere, io non so come è progettata la vostra azienda, ma se l'essere nella vostra azienda, ok, è, per tutta una serie di motivi, è inarginabile il fatto che la gente apra la porta, e venga dentro il vostro ufficio, o che ci sia un telefono che squilli, e della gente che vi chiami, e vi contatti, eccetera, eccetera, non va bene, dovete trovare una location, fuori dall'azienda, recintata e protetta, dove spegnete i telefoni, spegnete tutti i social, la gente non vi può chiamare neanche se va a fuoco, e voi uscite da lì, quando avete finito, quindi, il vostro luogo di lavoro, ok, in realtà non esiste, ci sono due luoghi di lavoro, ok, in realtà la cosa che non dovrebbe esistere, è il vostro ufficio in azienda, vi dico, segnatevi questa cosa è carina, segnatevi questa cosa, io non ho l'ufficio in azienda, cioè nel senso, cioè, c'è formalmente, ma è dei miei ragazzi, c'è perché l'architetto lo ha progettato, quando abbiamo fatto la sede, ok, quindi eravamo lì in Svizzera, abbiamo progettato la sede, c'è il mio ufficio, ma ovviamente è dei miei ragazzi, io non lo posso usare, perché? Perché quando sono in sede, ok, anche quando sono a Mendresio, o sono all'interno dell'azienda, cioè sto con i miei ragazzi a fare le cose che devo fare, o sto per i fatti miei, magari lavoro da casa, ok, non sto dove la gente possa venire a interrompere il mio lavoro, cioè mi isolo, quindi ragazzi, voi dovete differenziare le attività che potete fare o dovete fare con gli altri e le attività nei quali siete completamente isolati, in nessuna delle due attività, né quelle dove state lavorando con gli altri, né quelle dove state lavorando da solo, qualcuno può interrompervi, cioè non è che tu non puoi interrompermi quando sono da solo, se io sto facendo una riunione con i venditori, ok, non entra l'amministrativa, Frank ti devo parlare un attimino, perché se no le do una testata e la svengo lì, devi stare fuori, non mi puoi parlare, tu non mi puoi parlare, non mi può parlare nessuno, ok, se c'è un problema lo risolvi, se non lo sai risolvere chiami il commercialista, io ho la terza media, non le so queste cose, ok, parli con, non parli con il commercialista che chiami da noi, parli con il direttore finanziario, cosa vuoi da me, tu non mi devi rivolgere la parola, ragazzi, state attenti a quello di cui, non è che non mi devi rivolgere la parola, nel vero senso la parola, cioè che non mi puoi parlare tu, è che è una cosa stupida che tu venga a parlare con me, perché ci sono, sicuramente nella mia azienda ci sono delle procedure, ci sono delle persone intermedie che hanno delle risposte più intelligenti delle mie, e se voi non create queste procedure, cioè se succede tizio e tu devi parlare con Caio, la gente verrà da voi, a Caio glielo dovete dire però, gli Caio guarda che quando si sono sticati ti arrivano nella schiena a te, stai all'occhio, ok? Cioè, non c'è che fate entrambe, facciate entrambe le cose, perché se no non funziona, ok? Quindi il dove lavori è il primo punto, ok? Secondo passaggio, dovete stabilire in azienda come le persone possono interagire con voi, cosa vuol dire? Allora, voi dovreste stabilire la regola che nessuno, nessuno intendo, i vostri collaboratori, ma anche i clienti, e o fornitori, e o figure esterne come banca, Caio eccetera eccetera, possa comunicare con voi in tempo reale. Cioè, voi dovete vietare questa cosa. Cioè, nessun cliente deve avere il vostro WhatsApp e il vostro numero di telefono se siete imprenditori. Non è possibile, ok? Nessuno deve poter comunicare con voi, mandarvi, ok? Una comunicazione in tempo reale. Nessuno vi deve poter telefonare. Nessuno deve poter entrare nel vostro studio aprendo la porta o nel vostro negozio. Nessuno deve poter fare questa cosa. Ok? Nessuno. L'unica comunicazione che è consentita è la comunicazione indifferita. Che cosa vuol dire? Allora, farvi capire. Dan, come lo fa Dan e come lo faccio io. Lo facciamo in due modi diversi, ma il principio è lo stesso. Nel senso che, allora, Dan ha sempre lavorato, il massimo della sua azienda quando la gestiva lui, era un'azienda di cinque persone prima che la vendesse a Bill Glazer, prima di fondarla a GKC. Cioè, lui, ve l'ho detto più volte, lui a un certo momento della sua vita incontrò Bill Glazer che era un suo studente e gli disse, guarda, è un peccato che con tutta questa competenza tu la voglia sfruttare solo a livello praticamente quasi personale perché sei tu e assistenti tutto sommato per fare, insomma, la tua membership e qualche corso durante l'anno, no? Possiamo crearci una grande azienda e che poi quello, insomma, che Bill Glazer fece e portò poi alla vendita della GKC a un fondo, no? Cotato in borsa che glielo comprò e fecero cash out, eccetera, eccetera. Allora, il dato è che Dan, quindi lavorando sempre da solo, che cosa faceva? Una cosa molto semplice, cioè nel senso, lui stava a casa sua, non è che c'era un negozio, quindi per comunicare con Dan, ma ancora oggi è così, io so che magari voglio far ridere, per essere sicuro che la gente comunicasse indifferita, devi mandargli un fax, cioè io oggi voglio parlare con Dan, gli devo mandare un fax, ok? Devo mandare un fax che arriva a Vicky, che è la sua assistente, Vicky li raccoglie, non lo posso nemmeno mandare a lui in realtà, devono arrivare a Vicky, Vicky li raccoglie tutti i fax e una volta a settimana glieli porta. Questo è come funziona la comunicazione indifferita, chiaramente, ok? Perché, allora, il fax è una figata in realtà, e Dan ha ragione, è chiaro che oggi la gente dice non si usa più, no, 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 tu lo puoi usare, nel senso che ti devi mettere lì, puoi mandarmelo in realtà, digitale, poi a me arriva, ok? Però al di là di quello, perché Dan usava il fax? Perché? Perché chiamare, è un attimo, mandare un messaggio di testo, è un attimo, il fax ti devi rompere i coglioni, per produrre un documento, una volta quantomeno, quando il fax era vero, non era quello digitale, per mandare una roba. Quindi, ci devi pensare per scrivere la roba, perché una volta lo dovevi scrivere praticamente a mano, no? E quindi, se comunichi, vuol dire che hai veramente bisogno. E comunque, dovevi mandare un fax all'assistente, l'assistente glielo mandava via posta una volta a settimana, nemmeno lo portavano via posta, perché l'assistente non abitava dove abitava, perché Dan abita in buco di culoni a Macedonia, in, in, dove sta Oklahoma, lì, cosa, è una cosa, Noaio, ok? È vicino Cleveland di Noaio, è il posto più, è un posto horror, ragazzi, è una cosa incredibile, ok? Quanto è brutto il posto, sembra veramente tipo The Hostel, no? Cioè, vedete questa campagna, no? Americana del nord, poi vicino all'acqua, quindi ghiacciato, tutte queste cose, vedi la bruma, non c'è niente, ok? C'è questa strada lunga, campagna, campagna, di qua, se ci fermiamo con la macchina, siamo rovinati, c'è da cagarsi addosso, ok? E gli unici hotel che ci sono sembrano veramente le piccole botteghe degli orari, hai sempre la paura che di notte arrivi qualcuno, ti sgozzi, perché guardi fuori, avete presente che ci sono quegli alberi neri, tutti un po' aggreppiati, è veramente così, sembra un film. Fuori, la cosa più vicina che c'era nell'hotel dove stavamo noi, che era l'hotel più figo del posto, non c'era niente, c'era un distributore della benzina e poi eravamo in mezzo a nulla, le esperienze, quando vado a casa di niente, sono queste qua, tendenzialmente, ok? Allora, per farvi capire, io ovviamente non mi faccio mandare i fax, è una cosa anacronistica, ok? Però il concetto non cambia, cioè nel senso che la gente con me non può interagire, la gente non può interagire, ok? La gente può parlare ai vari livelli con i miei collaboratori, i miei assistenti, la mia assistente personale, il mio direttore, eccetera, eccetera, loro risolvono il 99% di quello che è di loro competenza, ci dovesse essere una tantum, qualcosa che spetta a me, mi viene comunicata al punto numero 3, cioè che cosa significa? Significa quindi che la gente non può interagire con me in tempo reale, non è possibile questa cosa, perché io devo fare le cose, devo lavorare, eccetera, eccetera, o voglio stare in pensione, quindi non mi dovesse tromper i coglioni, è uguale, ok? Bene. Al punto numero 3 dovete stabilire la regola chi può interagire con te. Allora, i fornitori non possono interagire con me finché non li chiamo io, se li chiamo io è un conto, perché i clienti non possono interagire con me come gli pare, ok? ma nemmeno i collaboratori possono parlare con me, cioè in azienda, ok? Noi siamo un'azienda di un centinale di persone, sono autorizzate a rivolgermi la parola al massimo 5 persone, ok? Quindi la mia assistente personale e i direttori, fine. Nessuno degli altri è autorizzato a parlarmi, non mi puoi disturbare, cioè devi parlare con i livelli intermedi, perché qualunque problema tu abbia, dato che sei un operativo, c'è il direttore di reparto che lo risolve. Se ci sono delle cose così complesse che uno junior può aver creato che c'è bisogno di parlare con me, il direttore quando è il momento l'unica persona autorizzata mi verrà a parlare, mi comunicherà questa cosa, fisseremo quando gli do una call e parleremo di questa cosa. Ma non ci sono normalmente emergenze sulle quali io debba essere coinvolto, ok? Quindi, ragazzi, tre punti. Dove lavori? Come le persone possono interagire con te, quindi mai in linea diretta? Tre. Chi del tuo team può parlarti? Non è che tutti possono avere accesso a me, perché se no io non lavoro, a voi che siete piccoli imprenditori, io lo so che suona strano, ok? Cioè nel senso che dite cavolo, ma come? Ok, in azienda da me? Cioè, ma sì, è chiaro, ragazzi, siete 5, 6, 10 persone, è chiaro che la gente arriva a aprire la porta, ma in nessuna grande azienda questa cosa è autorizzata. Cioè non è che può partire l'operaio, ok, da Amazon e va a bussare a Jeff Bezos, abbiate pazienza, ok? Ci sarà un motivo, no? Quindi non c'è bisogno di avere una struttura grande come Amazon. Quando io ho capito quel principio di efficienza, di mentalità vincente, lo applico anche alla mia azienda più in piccolo, ok? Non è che può partire il magazziniere di Amazon, no, io ho un'idea, devo parlare, oggi devo parlare col cavolo, vado a bussare a Jeff Bezos. Siete pazzi? O pensate che gli operai della Tesla possano andare a parlare con Elon Musk? Non lo so. Magari, ma c'è il senso, no, ok, prendiamoci chiaro, ok? Perché non funziona così, perché sono, la Tesla ha tipo 100.000 dipendenti, sapete quanti sono 100.000 dipendenti? Eh, allora, questi ragazzi sono la mentalità vincente, solo che per fare questa cosa non è un problema di, cioè perché si chiama la mentalità vincente? Perché stiamo partendo in realtà dalla programmazione personale, perché la programmazione personale fa parte della mentalità vincente, perché? Perché è quello che vi dicevo all'inizio, cioè non è un problema che io vi dica che devi fare queste cose, cioè il dove lavori, separarlo, ok? Il come possono interagire con te le persone, il chi può interagire con te. Il problema sono, then you have the brass bolt, cioè, devi avere le palle di farlo, perché se te non c'hai le palle di farlo e tutta la gente può fare quello che gli pare con te, tu non sei un imprenditore, sei un perdente, sarai sempre un perdente perché sarai sempre in balia degli eventi, sarai sempre in balia dei clienti che vogliono solo te, che vogliono parlare per forza con te, vogliono parlare subito, ok? E i fornitori uguali devono parlare con te perché devono capire, che ti devono spiegare e devono farlo subito, ok? Quello della banca ti deve parlare, il collaboratore c'ha bisogno, se non risolvi tu questo problema non lo può risolvere subito, sono seghe mentali da perdente, cioè ragazzi questo non è un problema, non è tecnologia, ok? Cioè sì, è tecnologia di programmazione, ma quando ve l'ho detto c'è solo lo fai o non lo fai, non c'è, nel mio caso è particolare, c'è che hai le palle di farlo o non c'è le palle, c'è che sei un vincente o sei un perdente perché così funziona e se fai diverso non funziona, questo è uno dei motivi perché la vostra azienda non crescerà mai perché più cresce più avete problemi addosso, cioè se voi non rispettate, ragazzi, guardate che vi sto regalando delle cose che voi dovreste baciare per terra, cioè se voi non rispettate queste tre cose, più la vostra azienda cresce e più voi andate verso l'esaurimento nervoso, cioè se voi non potete arginare i clienti, è chiaro che dovete rimanere sempre con quattro clienti sfigati perché se ne aveste cento arrivano tutti addosso perché vi possono chiamare a tutti, il cellulare a tutti, chiunque può chiamare nel vostro ufficio e la segretaria vi passa, eccetera, eccetera, è chiaro che diventate pazzi, è chiaro che non potete essere oltre una micro azienda con un massimo dieci persone perché già parlate con tutti e sono dieci, se fossero cinquanta sareste pazzi, se fossero cento più o meno come me sareste pazzi, ok? Con i fornitori è uguale, più cresce l'azienda più crescono i fornitori, le aziende, e se devi parlare te sempre con tutti è per quello che rimanete piccoli, ragazzi, perché siete dei perdenti nell'animo, non lo dico come offesa, ragazzi, non è che sto facendo il motivatore al contrario, vi sto parlando di quello che dice Dan, ok? Ne sto parlando in maniera agnostica, però vi sto anche dicendo vi sto dicendo che le mie aziende sono nate e cresciute così e grazie a Dio funzionano così, esattamente così, quindi è solo un problema di chi è a capo ha la mentalità del vincente e fa queste cose, ok? O chi non ce l'ha è un perdente e trova le scuse ma da me, ma però, ma io, ma se non ci sono io, ma la gente è gna 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 gna, e chi è che fa gna gna gna? I perdenti, fine, mentalità vincente e mentalità perdente, ragazzi, poi io ve lo dico col cuore in mano, cioè nel senso io sto sempre facendo l'esegetta di un pensiero altrui anche se lo condivido, ci niente di male essere un perdente, però sappiate che queste sono le cose che vi servono per cambiare la vostra vita, cambiare il vostro business, cambiare i risultati, ok? Cioè non è che vi sto giudicando, non è che sto giudicando, non è che sto giudicando, sei una merda, ok? Come gli italiani che hanno questa accezione orribile, no? Sulla parola per esempio fallito, no? Cioè negli Stati Uniti è normale, faccio un'azienda, qualcuna va bene, qualcuna va male e continuo a lavorare finché non metto su esperienza e prima o poi riesco a fare le cose fatte bene, no? Perché magari nessuno me l'ha insegnato, a scuola nessuno ti insegna a fare impresa, ok? E quindi posso anche sbagliare qualcosa, è normale. E ragazzi, è uguale, qualcuno di voi si renderà conto che non ha la mentalità vincente, quindi non può creare, è inutile che vai in giro a cercare cose, non ce l'hai qua e quindi non la potrai mai realizzare un'azienda di successo, non c'è modo perché non riesci ad applicare le cose che vi sto dicendo che sono non fondamentali, bene, andiamo avanti. Cosa c'è dopo? Ok, quindi è non fate le cose tanto per fare, cioè non, perché è normale farle, non tenetevi indaffarati, cioè voi dovete avere il vostro schedule, cioè nel senso il vostro calendario giornaliero e dovete fare solo le cose che sono necessarie per produrre risultati, non perché è normale che, e allora ci siete anche voi, ok? Dovete fare solo le cose che avete deciso di fare perché quelle cose produrranno un risultato, non fatele perché, eh ma è normale, la gente mi viene a chiamare, sono andato una mano di là a farle pizze, no, no, non funziona così, ok? Quindi non fate le cose tanto per farle perché è normale così, non dovete rispondere al telefono a chiunque perché devo, non dovete rispondere a nessuno, non dovete rispondere a nessuno, voi dovete fare le cose che producono risultati, la gente non vi può chiamare, parla con un vostro assistente dipendente o quello che è e aspetta e lo richiamate quando dite voi, fine, ok? non dovete richiamare nessuno, ok? Se voi siete dei pazzi sclerotici che siete sempre col telefono in mano, smettetela, cioè siete dipendenti dal telefonino, smettetela, ok? soprattutto se nel telefonino la gente può entrare, cioè io nel mio telefonino i messaggi sono solo in uscita tendenzialmente, in entrata la gente sa che non ci deve neanche provare, ok? Perché? Perché no, ok? Perché la mia vita ti tiene fuori, ok? Sono io che decido quando comunicare, ti sta bene così se non ti sta bene è così uguale, perché? Perché io ho un progetto da portare avanti e se stessi dietro a tutti i cacacazzo non potrebbe funzionare, ok? Bene, ancora quindi non parlare con chiunque voglia parlarti, semplicemente perché hai sempre fatto così e perché ti sembrava normale. Sapete quante persone vogliono parlare con me e sapete quante ci parlano? Zero, non puoi parlarmi. Eh ma, mi interessa, ma io voglio parlare con Frank. Sai che me che cazzo me ne frega? Io volevo avere cinque palle ed essere un flipper, guarda un po', però comunque non lo sono. Ognuno ha un sacco di desideri ma non tutti si realizzano, purtroppo a mente, ok? Quindi, questo è il dato, non fare le cose tanto per fare, non parlare con la gente tanto per parlarci e per farvi capire il concetto, ok? Questo è il dato. Quindi, altro passaggio importante, ok? Assumi persone capaci, pagale bene e non perdere tempo. Che cosa significa? Cioè, la mentalità del vincente, ragazzi, capisce che il suo tempo, parlo come imprenditore, chiaramente, che il suo tempo è più prezioso di qualunque risparmio tu possa avere su un compenso di qualcuno. Cioè, cosa fa la maggior parte di voi, ragazzi? La maggior parte di voi è la mena che eh, ma non si trova la gente, eh, ma la gente non vuole lavorare, la gente non più, allora, ci sono due problemi legati a questa cazzata, perché è una cazzata, io la gente ce l'ho in esubero, voi come fate a non trovare nessuno? Non è possibile. E in ruoli difficili, ok? Bene, allora, uno, il problema, ragazzi, è che voi più siete piccoli, più volete spendere meno, cioè dice, sono aziende piccole, e quindi volete prendere degli apprendisti, tipo, da zero, da formare. Ma è una follia. Cioè, prendere dell'agente, ragazzi, che sta a zero, non dico che non ci sia spazio, noi lo facciamo, certamente prendiamo gente anche più o meno a zero in alcuni ruoli, la formiamo, c'è spazio anche per l'apprendistato in azienda. Ma quando per voi è la strategia, ok? Soprattutto c'è spazio per l'apprendistato quando l'azienda è già grande e ha dei ruoli intermedi, ma più sei piccolo, in realtà, più la mentalità vincente ti dovrebbe spingere a fare il contrario. Cioè, tu non puoi avere, cioè più l'azienda è piccolo, tu non puoi avere gli apprendisti. Perché? Perché questo se sta a zero, arriva, non sa fare un cazzo e quindi tu gli devi insegnare tutto e perderai un sacco di tempo e non potrai lavorare perché devi formare lui. Poi mi spiegate come fa, cioè, chi la deve formare? Cioè, se devo fare un'azienda, io so fare le mie cose, non è che posso formare gente, prendo l'amministrativo junior, ok? E se questo fa le cazzate, chi cazzo lo controlla che io non ci capisco niente? Sono mica un si e foglio. Cioè, quando ho l'azienda grande, ho dei ruoli e quindi posso prendere degli junior, formarmi da zero, eccetera, eccetera, ok? Ma io non è che so fare le cose, cioè, prendo uno junior da zero, sono da solo, mi prendo uno junior da zero nella marketing automation. E come lo fai? E chi cazzo lo forma? Io non so mica capace. Io sono un esperto di mare, ma non so mettere, non so aprire il pannello di Google e fare le sponsorizzazioni, non lo so fare. Perché non so aprire il pannello di TikTok, di Facebook e fare la roba. Quindi, non posso prendere uno da formare perché spendo meno e intanto vediamo come va. In nessun ruolo, in nessun ruolo, ragazzi, ok? Quindi, il vero segreto è, prendi le, trova le persone capaci, le paghi, queste, pagandole, fanno il loro lavoro, tu puoi continuare a fare il tuo, il lavoro aumenta e migliora grazie al fatto che ci siano due persone capaci, poi tre, quattro, cinque persone capaci che stanno facendo il lavoro e abbiamo risolto. E il mio tempo non è vampirizzato da dover fare delle cose che manco so fare. Cioè, ragazzi, voi non le sapete fare le cose, che, cioè, o prendete un, cioè, un conto è un operaio che deve formare un altro operaio, ma in azienda voi avete dei ruoli che voi non sapete, voi non sapete formare le persone. Perché prendete degli iuditi? Siete pazzi? Voi dovete, cioè, questa è una cosa, non è che lo dice Dancani, lo dico io, lo diceva, cioè, lo dicono tutti, ma lo diceva anche Steve Jobs, noi all'Apple prendiamo, non prendiamo le persone per spiegargli quello che devono fare, noi prendiamo della gente capace perché loro spieghi a noi che cacchio devono fare, che cacchio dobbiamo fare. a che volete fare, no? Io devo capire come la gente, la delega, la formazione, ma che delega? C'è una microazienda, devi prendere uno che è più capace di te, è lui che spiega a te le cose, non c'hai tempo, ok? Non c'hai tempo, ok? Il corso di delega, ok? In un secondo e mezzo, prendi uno che sa fare la roba e lo paghi, guardate, è già delegato, è delegato, a lui, tipo, lo sa fare, lo pago a posto, se non lo sa fare non può lavorare con me in questo momento. Continuate a cercare finché non trovate uno che lo sa fare. Il corso della delega è finito. Trovate uno capace in quel ruolo, dovete cercare un senior, ok? E lo dovete pagare. La differenza dello stipendio che voi avete in testa tra uno junior e un senior è una follia, perché sapete quanto vale una mia ora sprecata a formare uno junior quando in realtà se ci fosse un senior che vada solo o più o meno dopo un minimo di inserimento, per l'amor del cielo, un minimo di inserimento, fargli vedere la roba, ok? Tutte le persone vanno inserite un attimo in azienda. Ma un conto è uno che lo inserisco dieci giorni in azienda e poi va. Un conto è uno junior che non ha le competenze e quindi prima di partire ci mette sei mesi, ci mette un anno, se va bene. Ragazzi, cambia tutto il gioco del mondo. Ragazzi, cambia tutto il gioco del mondo. Quindi il corso sulla delega più siete piccoli è smettetela di prendere della gente che sta a zero da formare. Non è possibile per un'azienda piccola prendere degli incompetenti. Le uniche aziende che possono permettersi di inserire l'apprendistato all'interno del loro circolo di sviluppo sono le grandi aziende, ok? Ma voi pensate se io oggi mi devo prendere, non so, qualunque cosa. Un copy da zero e lo devo formare. Ma quanto costa? Cioè, invece che pagare un copy senior e farmi fare la roba prendo uno junior a zero ma lo devo formare io. Ma alla fine quella sales letter se io ho dovuto formare da zero ma quanto è costata? Un milione perché se conto tutte le ore di formazione che ho dovuto dare a questa persona non ne esco vivo. Non è possibile. Ma che sia in qualunque ruolo che sia nell'amministrazione cioè qualunque cosa che distrae me dalla produzione non è possibile. Ragazzi, voi non potete essere distratti da quello che dovete fare. Assumere persone incapaci da zero in una piccola azienda non è possibile perché poi quello che ci rimette sempre in termini di tempo di attenzione è sempre l'imprenditore ma è ovvio che sia ragazzi, è ovvio che sia così. Perché vi devo spiegare le cose che sono ovvie però da soli sono ovvie solo dopo che ve le ho dette perché sono ovvie però se non ve le dico io vengo a vedere le vostre aziende non crescono. Perché? Perché prendete la gente che non sa lavorare. Voi lamentate tutti i coglioni ma l'hai preso te incapace perché te lo volevi crescere te da zero e perché così lo pagavi meno col contratto e te ragazzi devi prendere la gente capace e devi pagare. Fine. Fine. Ok? Vai, dove li trovi? Nelle altre aziende. Ok? Vai, quanto guadagni? Questo, ti do quello che serve in più vieni da me perché c'ho tanto bisogno. Finita la trattativa. Finita la trattativa e finito il problema che ho in azienda. Il corso di delega si fa così. Poi quando saremo cresciuti quando avremo creato un pool nei vari ruoli che mi servono ho il direttore del personale ho il CFO ok? Ho il CMO ok? Ho il direttore generale eccetera eccetera ho il direttore operativo ho tutte queste bene. Allora da lì in avanti chiaramente attraverso la manualistica e tutte queste cose inseriremo con più facilità degli junior che verranno formati da queste figure ma io se parto all'inizio devo andarmi a comprare sul mercato della gente capace. Ok? Le partite ragazzi si vincono se non hai giocatori da serie A le partite non si vincono ok? Non puoi vincere con i B player cioè non è ragazzi che in una grande azienda perché c'è questa minchiata che viene sempre usata fuori contesto nel mondo della formazione in generale ok? No l'azienda deve funzionare con gente mediocre che però attraverso i sistemi fa funzionare le cose non è vero è una cazzata è una cazzata non funziona con la gente di serie B e le procedure la roba non funziona nemmeno McDonald's funziona così nemmeno McDonald's tanto che McDonald's ok? ha dovuto mettere la regola per la quale l'imprenditore che si compra il punto vendita deve rimanere a lavorarci dentro perché? Perché hanno scoperto che se non rimane il capo dentro la gente in media lavora male la qualità non funziona non escono le cose velocemente eccetera 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 voi che un prodotto o un servizio ce l'avete probabilmente un po' più complesso di un panino del McDonald's immaginatevi un po' non significa ragazzi che non state attenti che non sto negando il concetto vi sto portando a un livello di intelligenza un po' più alto sul concreto cioè non è che non debbano esserci delle procedure straordinarie in azienda dove a un certo livello una persona normale anche grazie alle procedure non possa far funzionare le cose ma a cappello servono i campioni del mondo servono i giocatori di serie A senza giocatori di serie A l'azienda non va avanti perché poi sono anche quelli che trascinano gli altri se non avete Danny di A player i giocatori della serie A i giocatori di numeri 1 non ce la facciamo a vincere è una bugia è una bugia quella delle procedure basta non si vince con le procedure si vince con i campioni poi anche con le procedure che mi permettono di non dover sempre mano a mano che l'azienda cresce avere tutti i fenomeni ma il contrario è una bugia da formatore che in azienda vera non ce l'ha perché se tu ce l'hai l'azienda sai che senza il campione del mondo cazzo quel reparto non gira non gira con la roba lì ok le procedure non fanno niente se non c'è qualcuno che trascina l'azienda quindi tornando a questo punto ok assumi persone capaci pagale bene e non perdere tempo perché il mio tempo vale oro ok anzi io all'inizio sono il motore immobile dell'azienda cioè se io non faccio quello che ho schedulato nei miei micro obiettivi l'azienda prima perde colpi e poi salta per aria per quello le aziende falliscono guardate che se voi andate a ritroso anche solo sui punti che vi ho appena dato ok qui ci sono tutti i motivi per i quali le aziende falliscono semplicemente perché gli imprenditori non rispettano questi principi da mentalità vincente semplicemente questo ok perché? perché vieni trascinato fai i brighi e l'azienda dopo un po' salta perché tu sei una pila umana e muori per esaurimento nervoso ragazzi le aziende non muoiono per la concorrenza la crisi no le aziende muoiono per esaurimento energetico esaurimento spirituale mentale ok di carica emozionale e vitale dell'imprenditore perché all'inizio parti sei molto motivato hai questo sogno hai questo progetto sei carico parti e tutto e spacchi e vai ci sono i problemi tu li affronti e arrivano i problemi tu li sposti arriva quello il problema è quello ti rompe i coglioni e lo superi e quello ti fa causa e gli va a fanculo e il cliente e tutto il giorno è così ok ma dopo un po' questa carica vitale a forza di prendere botte noi siamo esattamente come una pila non so se qualcuno ve l'ha mai spiegato ok voi non potete andare ragazzi avanti a storielle motivazionali all'infinito cioè nel senso che se voi non cambiate l'azienda portando questa mentalità vincente nella gestione imprenditoriale voi dopo un po' siete come le pile cioè cosa succede le pile ricaricabili avete presente come il vostro iphone se ce l'avete cioè più lo ricaricate più la volta dopo ce lo potete ricaricare quando si è scaricato ma si carica un 1% in meno cioè si carica un 1% in meno ok perché? perché prendiamo le botte anche psicologicamente prendiamo le botte soprattutto se non risolviamo mai quel problema perché sopraggiunge la frustrazione quindi un problema io lo posso affrontare una volta due o tre ma la quarta devo averlo risolto perché devo andare avanti altrimenti quella frustrazione si incancrenisce e la mia carica vitale diminuisce ok non è che mi posso rimotivare perché mi sento un po' a forza di rimotivarmi mi sento anche un coglione ok sono solo un coglione motivato perché torno lì e sbatto sempre contro lo stesso muro e porca puttana sarai pure motivato ma sei un coglione perché sto problema non l'hai fixato non l'hai risolto cioè parlo strano ragazzi sono io che parlo difficile non si capisce parlo una lingua che non si capisce è strana quindi ragazzi la carica vitale si può ricaricare si può rigenerare ma se risolvo i problemi si rigenera al 100% e sono pronto per una nuova sfida ma se voi i problemi non li risolvete tutte le volte che provate anche con la meditazione con i corsi con quello che volete con le frasi motivazionali con la musica qualunque approccio motivazionale voi abbiate la spiritualità si ricarica un pelo meno fino a che non vi esaurite dopo un po' gli imprenditori i ragazzi li vedete all'inizio sono tutti belli abbronzati fighi eccetera eccetera sprizzi qua sprizzi là negli anni li vedete cominciano a mettere la panza perdono i capelli hanno la barba perché? perché non ce la fanno più perché sono esauriti ok cioè loro si imbruttiscono anche caratterialmente diventano borbottoni cioè perché la loro carica vitale e la loro empatia si esaurisce in realtà perché? perché non risolvono veramente quelle problematiche che invece dovrebbero essere gestite a un certo momento ok quindi questo è si trova nel libro Autostrada per la ricchezza ok la citazione di MJ che dice io ho deciso nella vita che non sarei mai voluto diventare l'imprenditore grasso e pelato con la BMW ok non è body shaming ragazzi è una battuta del cazzo però è per farvi capire un po' il concetto ok cioè nel senso dovete essere belli cazzo e dopo un po' quando vi presentate a lavoro la mattina e non ne avete più perché siete figa la vita vi ha distrutto cioè l'azienda non ce la fate più ma non è perché dice l'azienda è perché cento volte dovevate risolvere un problema come vi sto dicendo l'avete lasciato lì e alla centesima volta che lo dovete affrontare siete esauriti non ce la fate più non ce la fate più e non c'è autocarica motivazione che possa a meno che lo risolvi se risolvete boom vi sbloccate cioè il risultato della risoluzione boom vi ridà carica vitale immediatamente cambiate ok avete tutto quello che vi serve e la vita vi cambia altrimenti no altrimenti è un casino quindi segreto pensiero contrario più siete piccoli più dovete assumere persone già capaci come vi ho detto prima non è che una persona arriva ed è già capace al cento per cento di fare quello che voi volete come lo volete ma un conto è un senior che con quindici giorni di inserimento va ci siamo capiti un conto è uno junior che ha bisogno di sei mesi di training solo per svolgere le mansioni di base perché un conto è uno che deve fare le fotocopie ragazzi capisco che pigliate uno junior ma per qualunque altro ruolo in azienda voi all'inizio non avete tempo di supervisionare questa gente o meglio avete tempo di fare un po' di supervisione ma non avete tempo di formarli da zero perché se no non vivete più quindi o fate l'imprenditore o rimanete bloccati nel dover supervisionare e formare queste persone non funziona quindi vi ho svelato come mai la vostra azienda non cresce perché selezionate male le persone cioè le selezionate male non che le selezionate durante il colloquio di selezione e che state cercando le persone sbagliate a voi serve gente con i controcoglioni il problema qual è è che la gente con i controcoglioni è gente forte e quindi la maggior parte di voi degli imprenditori sono un po' egotici sono un po' orgoglioni sono un po' tutto io e il problema è che tu devi avere invece piacere a circondarti di gente cazzuta di gente forte di gente che ha anche un certo caratterino se voi volete solo gli scendi letto e gli yes man vi circondate di coglioni sapete quanti imprenditori in gamba ma forti io conosco che dopo dieci anni che li conoscevo all'inizio dico cazzo lui per me era un forte è un rincoglionito è diventato veramente un rincoglionito perché si è circondato di deficienti che lo hanno rincoglionito perché se ti circondi di yes man se ti circondi di idioti dopo un po' tu smetti cazzo di avere un cervello che funziona perché poi questa gente non funziona ti manipola perché poi questa gente per trovare il modo di stare lì ti manipola ti demotiva si fanno sentire fondamentali ti fanno sentire scemo se non ci fossero loro questa gente ragazzi non va bene vi serve gente cazzuta che magari vi manda anche a fare in culo che ci scontriamo anche magari durante le riunioni eccetera eccetera però lo capisco non è importante se ci si manda a cagare però è perché siamo lì per lavorare ed è fighissimo quando abbiamo finito si va a Bernabira si va a fare la pizzata quello che dobbiamo fare però cazzo voglio gente forte in azienda se voi non vi godete la gente forte perché avete dei problemi di autostima e volete solo degli scendiletto siete dei perdenti ok il leader gode quando la gente intorno è più forte di lui tutti i miei ragazzi cazzo nei ruoli direttori sono più forti di me nel loro ok nel mio no ok ma nel loro io sto con loro perché so che loro sono più capaci di me sono più intelligenti di me è che io parlo con Alberto Alberto adesso ti spiego che cazzo dobbiamo fare qua guardo a lui perché che cazzo dobbiamo fare su questo passaggio che in termini finanziari ok è così per tutti gli altri è così per tutti gli altri ok poi ogni tanto c'è bisogno cazzo dalla mano del capo che fa un lavoro imprenditoriale diverso li mette tutti in fila cazzo a quattro urla tutti capiscono ok ma è il mio ruolo ok se non facessi quello non servirei a niente cioè perché l'azienda ogni tanto deve passare dal problema tecnico al problema di scopo orientamento visione olistica ok rimettere tutti insieme ripartire il mio ruolo è quello lì ogni tanto ok lanciare quattro porchi fine ma quando io sono in azienda guardo ai miei non sono io che vado lì ragazzi adesso vi spiego non vado a fare micromanagement ai miei è il contrario sono i miei che mi vengono sul tavolo Frank si fa questo si fa questo si fa questo si fa questo ma se mi chiedono o fanno in autonomia o mi chiedono se ti posso fare una domanda cosa ne dici facciamo così ma è gente capace ma se voi non vi godete le persone capaci avete un problema di autostima cioè avete autostima troppo bassa ok e quindi vi sentite reagite facendo fratello cazzo e il problema ok è che l'azienda non funzionerà mai l'azienda funziona in funzione di ecco segnal questa cosa non c'è segnatevela segnatevela l'azienda non avrà successo in funzione di quanto siete forti voi ok perché voi da soli non siete abbastanza l'azienda ha un successo direttamente proporzionale in funzione di quanto è forte la prima linea sotto di voi poi tutta l'azienda ragazzi per amore cioè non è che sto sminuendo però se devo focalizzarmi su una roba se la prima linea è forte la squadra dietro è forte perché la squadra dietro è forte se la prima linea è forte è normale che sia così se in prima linea voi avete degli S-men dei leccaculo dei mezzi ritardati li avete scelti male vi siete circondati le persone sbagliate questa gente vi ingrinisce vi incarognisce vi fa perdere carica vitale vi imbruttisce vi rallenta vi fa diventare acidi non funziona non funziona così ok ragazzi quindi vi serve una prima linea di campioni e ve li dovete godere tra le altre cose ok bene andiamo avanti cosa c'è ancora ok questo crea un rituale crea un rituale per qualunque attività e attieniti al rituale ok quindi durante il giorno ok devi fare delle cose quelle cose si fanno sempre in un determinato modo le devi scrivere quindi non c'è in azienda l'azienda fallisce quando tu sei hai la mentalità dell'improvvisatore oggi vado in azienda vediamo cosa succede no oggi vado in azienda c'è un calendario questa attività funziona stamattina io devo scrivere le email quindi succede che entro c'è un rituale ok bevo il caffè mi metto a sedere chiudo la porta se sono andato in azienda ok metto fuori il cartello attenti al cane ok chi tocca la porta muore ok spengo tutti i telefoni ok spengo il mio telefono stacco tutto accendo il mac guardo dritto trovo i miei swipe file comincio a scrivere quando ho finito è un rituale ed è così per tutte le cose che devo fare ok e attieniti al rituale cioè non è che lo devo solo creare devo creare il rituale per fare le cose e mi devo attenere religiosamente al rituale ragazzi ho usato la parola religiosamente non a caso le religioni si basano sui rituali la preghiera oh è un rituale padre nostro è un rituale si fa in un modo metti le mani in ginocchio guarda il signore ok padre eccetera eccetera nammi orenge che è il buddista sono tutti i rituali volete diventare santi dovete eseguire dei rituali allo sfinimento allora se per diventare santo devo eseguire dei rituali allo sfinimento i frati che si danno le botte col cilice ognuno ha i suoi più o meno particolari ok bene voi nello svolgere le attività le attività aziendali sono dei riti sono dei riti esatto è come la messa è uguale ci sono dei riti la messa si svolge in un determinato modo c'è un rito dopo un rito ok l'attività imprenditoriale la gestione della vostra giornata è un insieme di riti se voi siete originali oggi vado in azienda e creo perché la mia siete i falliti non ce la farete mai perché non funziona così ok non funziona così dovete arginare e inscatolare la creatività all'interno della ritualità cioè non si vede non dovete essere creativi ok ma la creatività va applicata all'interno del rito non per fare altre cose perché se fate altre cose vi state distraendo ok quante volte si va a messa ok tutte le domeniche bene quante volte c'è il padre nostro quello da quando sei nato a quando muori bene padre nostro cambia da quando nasce no sempre quello bene per voi uguale in azienda identico ok entrate sapete che dovevi fare determinate cose cioè il rituale bagnate nell'acqua santa il segno della croce bla 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 tutte queste cose arrivate il prete dice in piedi in piedi il prete dice in ginocchio in ginocchio e adesso cantiamo adesso diciamo la preghiera e adesso ci stringiamo il segno di pa sono tutti rituali in azienda funziona così la vostra attività come imprenditore qualunque cosa stiate facendo è un rituale anche il cazzeggio è un rituale cioè nel senso che io decido che ho un'ora di stacco perché voglio staccare sono un imprenditore faccio quel cazzo che voglio e l'ho programmato all'interno delle attività parto cazzeggio faccio quello che devo fare eccetera eccetera riaccendo i telefoni parlo faccio quello che voglio scaduta l'ora rispengo tutto e parto con il rituale successivo fine 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 questa è la mentalità del vincente cioè che voi vogliate diventare un grande imprenditore vogliate diventare santo vogliate diventare illuminato si fa con i rituali il rituale perché il rituale cosa significa il rituale il rituale significa disciplina ok il vincente si abitua a sottostare alla disciplina il perdente fa le cose se ha voglia ok se me la sento se oggi c'ho voglia se vorrà il signore non funziona il signore vuole che tu tutti i giorni svolga i rituali se non lo fai non c'è niente di male vivrai la tua vita senza i risultati perché i risultati derivano dall'applicazione dei rituali nel lavoro ok che sia vendere che sia eseguire un questionario che sia programmare attività di marketing che sia gestire i numeri che sia guardare i KPI che sia spostare cento pacconi da una parte a quell'altra si fa in un rituale devo prendere le pinze faccio così giro a destra 20 metri è un rituale e lo devi eseguire sempre uguale perché se no il pacco finisce per terra e abbiamo distrutto tutto quello che stavamo trasportando guarda un po' oppure hai hai inforcato una macchina con il muletto ok se non segui il rituale fai i danni e non sei produttivo ok bene ancora questo è importante ragazzi la differenza tra un obiettivo e un sogno irrealizzato è data dal tracciamento e dalla misurazione costante cioè che cosa significa che tra un sogno irrealizzato e un obiettivo è il fatto che voi tracciate costantemente ora ci sono delle cose a livelli aziendali che possono essere tracciate una volta al mese una volta ogni tre mesi ok una volta ogni tre mesi guardo i documenti di bilancio una volta al mese magari guardo il controllo di gestione eccetera eccetera c'è una delle cose invece che devo tracciare quotidianamente ok per esempio noi tracciamo quotidianamente le vendite cioè io tutti i giorni voglio sapere l'incassato ognuno di voi deve sapere che cosa deve tracciare e ogni quanto ma se tu non tracci in maniera asfissiante tu non riesci a correggere le traiettorie quando in realtà le cose cominciano ad andare male quindi tu devi tracciare ok il problema non è fissare tutte le scuole di formazione devi visualizzare l'obiettivo te lo devi dare fuori lo devi scrivere tutto bellissimo tutto vero non sto negando niente io vi sto dicendo che quella roba se voi non la tracciate tutti i giorni voi quella roba non la realizzate voi dovete tracciare per correggere appena le statistiche stanno andando in calo c'è un problema tutti i giorni alcune cose possono essere tracciate in tempi più dilatati ok non è che devo controllare lo stato patrimoniale dell'azienda tutti i giorni ma l'incassato magari sì il numero dei lead che entrano magari sì che è l'attività del mare perché cazzo se oggi sono entrati zero lead non me ne posso accorgere di questa cosa fra una settimana o fra un mese perché se sono entrati zero oggi sarà rotto qualcosa e continueranno a entrare zero magari per una settimana per un mese stati fuori di cervello se oggi abbiamo incassato zero che cazzo è successo ci sono dei dati che devo controllare tutti i giorni ok e se voi non tracciate non misurate costantemente è un problema quindi vale dalla parte del marketing operativo direct response marketing quindi devo tracciare i risultati tutti i giorni ma vale nelle attività in generale per l'azienda ok io la differenza ragazzi cioè voi non mi interessa che scuola di formazione abbiate fatto e cosa pensate l'obiettivo si realizza se me lo do se lo scrivo su un foglio non mi interessa va tutto fate come cacchio vi pare ok nel darvelo nello scriverlo e nel crederci forte forte vi dico che cosa funziona ok funziona che voi tracciate tutti i giorni e appena la statistica non sta andando in su ma sta andando verso il basso ponete rimedi cioè vi fermate oggi abbiamo cambiato qualcosa è successo un danno devo rimediare a sta roba guarda un po' ok mi metto lì e cambio bene ancora trova un gruppo e un compagno di gioco che cosa significa significa che Dan la spiega con l'esempio di Weight Watchers Weight Watchers sarebbe in Italia è stato clonato più o meno non è proprio uguale ma assomiglia figurella avete presente i centri figurella ok Weight Watchers in America è il programma di perdita di peso che fa ottenere risultati alle donne in particolare perché perché a differenza quindi tu le cose le puoi fare cioè nel senso io decido faccio una dieta e la faccio da solo a casa ok oppure mi alleno ok e mi alleno non so da solo vado in palestra mi alleno da solo mi prendo le attrezze a casa oppure Weight Watchers per esempio che cosa fanno ok avevano capito la fondatrice in realtà di Weight Watchers che le persone erano più portate a rimanere responsabili dei propri risultati se stavano insieme ad altri quindi Weight Watchers aveva creato i momenti di condivisione della dieta eccetera eccetera quindi le clienti si trovavano insieme facevano la pesa tutti insieme si battevano le mani si avevano raggiunto l'obiettivo del peso e in più le persone avevano un Weight Buddy cioè nel senso ti facevano trovare un'amica o un amico insomma all'interno del centro con il quale tu costantemente ti confrontavi per dire hai mangiato oggi hai fatto bene hai fatto i passi hai fatto l'esercizio eccetera eccetera cioè avere ok un compagno di allenamento o un personal trainer ok eccetera eccetera ti aiuta a ottenere i risultati quindi anche da imprenditori ragazzi il concetto Dan lo spiega sempre non state da soli ok non a caso cioè per esempio per parlare di noi per capire cioè nel senso noi quando facciamo la formazione alle persone al di là delle tecniche performanti che gli insegniamo cosa facciamo li mettiamo insieme a un gruppo di lavoro la gente cosa dice se avete mai visto i commenti la gente dei corsi cosa dice bello il corso fantastico eccetera eccetera mi è piaciuto molto anche il fatto che ho potuto conoscere un sacco di persone come me da settori diversi che però avevano gli stessi miei problemi abbiamo parlato ci siamo confrontati adesso ci teniamo in contatto eccetera eccetera è perché è questo è questa roba qua ok quindi per esempio frequentare i corsi serve anche a questo non solo ma serve anche a questo noi mettiamo a disposizione un tutor per ogni studente perché il tutor si mette lì ti rompe le scatole ok dai hai fatto questo hai fatto quest'altro ok mi raccomando applica questo per cui ci dobbiamo rivedere dobbiamo fare questa cosa eccetera 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 quindi ragazzi come imprenditori cercate di non farla da solo la roba perché non funziona ok vi serve trovare un compagno di gioco qual è il problema che se il compagno di gioco è il vostro socio il vostro socio è un coglione o è negativo l'azienda non funzionerà ma ve lo dico proprio fuori dai denti ok se in azienda siete gli unici che vogliono ottenere le cose ottenere risultati eccetera eccetera ma siete circondati da gente negativa che non vuole fare non vuole crescere non vuole assumere non vuole investire non vuole fare la formazione ok anche questo è un problema ok è un problema con questa gente non potete avere niente a che fare dovete trasformarvi in dei vincenti e affrontare queste persone e risolvere questo problema perché altrimenti passerete la vita da perdenti e fra dieci anni vent'anni vi lamenterete sarete lì con i capelli bianchi cascati grassi non li potevo fare però il mio socio non ha voluto cioè potete vivere di rimorsi così cioè vi potete ingrigire imbruttire così ok perché il vostro socio vent'anni fa non voleva fare le cose voi non avete detto avete fatto pippa non avete detto niente per il quieto vivere ragazzi chi fa le cose per il quieto vivere è un cazzo di perdente non c'è niente di male essere un perdente ma almeno lo sapete ok o ottenete risultati o avete delle scuse e quindi dovete affrontare queste cose all'interno dell'azienda ok importantissime differenza tra questo è un concetto di dance straordinario questo mi ha cambiato tutti mi hanno cambiato la vita ma questo è stato assolutamente importante segnatevela questa cosa differenza tra guadagni immeritati e guadagni meritati che cosa significa significa che il perdente ok il loser passa la vita a cercare dei guadagni immeritati che cosa significa guadagni immeritati cosa sono i guadagni immeritati i guadagni immeritati sono guadagni che non derivano dal fatto che io abbia sviluppato delle skill cioè delle abilità particolari da poter scambiare sul mercato quindi divento ricco con il gioco divento ricco con l'investimento divento ricco cercando di salire sul carro ok le domande mi fanno la gente qual è secondo te il settore che tira ma se tu non sai fare un cazzo anche se ti dico qual è il settore che tira non farai niente perché non sei capace non hai skill in quel settore se sai far l'idraulico fai l'idraulico diventi ricco con un po' di marketing non sai dove mettere i soldi fai i soldi facendo il falegname il pizzaiolo non c'è nessun settore che tira ok però cercare sempre la scorciatoia vado nel settore dove è più facile ma se è più facile ci saranno un milione di persone là dentro ok quindi immediatamente non è più facile ok o cerco l'investimento della vita ok e le solite cose siamo dette mille volte ok invece cazzo che andare a lavorare investo in bitcoin sperando una botta di culo che vada a 800.000 io ve lo auguro ragazzi voi non mi dovete fraintendere io vi auguro col signore che i soldi che avete messo nelle criptovalute vi tornino moltiplicati per mille ma se vi dovesse andare male nel frattempo se voi aveste sviluppato delle skill cioè è come vince la lotteria ok ma i guadagni meritati sono i guadagni che derivano dal fatto che io ho investito su me stesso e io valgo di più quindi il fatto che io abbia delle skill spendibili questo però è un problema di autostima cioè le persone che vanno tutta la vita i guadagni meritati sono anche rubare ragazzi ok o truffare le persone sono guadagni meritati perché non derivano dalle mie skill di utilità delle persone significa che sto facendo delle cose sto gabbando le persone sto truffando le persone senza truffare le persone arrivo mi rivolgo al settore alla botta di culo voglio entrare in un ponzi spero di uscirne cioè sono tutte queste cose che non hanno a che fare con abilità non sono quindi Dan dice ragazzi concentrate la vostra vita nell'ottenere guadagni meritati e se continuate ad aumentare le skill ok nel settore nel quale state lavorando con i guadagni meritati voi cambierete la vostra vita per forza cioè il successo ragazzi vi arride per forza è più tempo che voi perdete dietro alle cazzate che non hanno a che vedere con lo sviluppare sempre di più le vostre skill personali ok e per quello che io rompo la gente mi fraintende ragazzi a me dove mettete i soldi o le attività che fate a me non me ne frega niente ok perché voi io sono liberato voi fate quello che volete potete investire in crypto fate quello che volete e io non ho nessun tipo di problema ma io avrò il diritto di parlare ai miei clienti ok sono il mio target e spiegargli come cazzo si fanno le cose allora le cose si fanno che se fai l'imprenditore bisogna che investi in azienda per far funzionare l'azienda per crescere l'azienda inserire persone in azienda investire in marketing in azienda per vendere di più imparare a marginare di più fare più cassa eccetera eccetera non è che io posso vedere porca puttana uno che va fuori di testa in ogni pausa invece che mettersi lì e guardare dei curriculum in pausa invece che controllare come sta andando l'azienda in pausa invece che guardare i dati statistici dell'azienda o scrivere un pezzo di copy è lì che si è messo e sta guardando cazzo se sta guardando il grafico se il bitcoin sta andando su o giù cioè porca puttana cioè perché la gente è così io ho i dentisti in pausa dovrebbero guardare cazzo di assumere delle persone e me li trovo che stanno guardando se le criptovalute stanno oh ma a me non interessa se la gente lo fa ma dico che se uno fa impresa devi stare concentrato nell'aumentare le skill e far funzionare l'azienda fine potrò dire quel cazzo che è giusto da dire agli imprenditori poi se gli altri fanno quello che gli pare a me me ne frega ok ma non dovete Dan non dovete perdere tempo ok a cercare l'occasione non esiste nessuna occasione nella vita ok non esiste l'occasione ok o meglio l'occasione ce l'avete già è la vostra azienda diventate più capaci a fare impresa diventate più capaci col marketing diventate più capaci con le persone ad assumere a crescere a formare le persone ok a creare i team diventate più capaci e all'interno a formare le vostre persone a vendere meglio a vendere di più ok diventate più capaci a gestire i numeri diventate più capaci a creare un prodotto un servizio sempre migliore come fate a non diventare ricchi se state focalizzati a sui guadagni meritati è impossibile ragazzi è impossibile siete a un millimetro cazzo della ricchezza però vi distraete ok perdete il focus ok perdete tempo a cercare l'altra occasione della vita perché l'erba del vicino è sempre più verde perché tizio va detto che il suo cugino ha fatto i soldi con i bitcoin e anche voi allora perdete tempo detta sta roba ma siete imprenditori fate i bravi state a culo basso cazzo concentrati a fare quello che dovete fare smettetela smettetela quindi questa è una frase hai fatto le cose intelligenti hai lavorato duro hai fatto del buon marketing i tuoi guadagni sono meritati cioè nel senso sei stato a fare quello che devi fare i tuoi guadagni sono meritati questa è una citazione di Dan non è mia frase è pesata proprio da lui ok questa è un'altra cosa importantissima di Dan ok con la quale chiudiamo segnatevela questa perché è importante vi servirà di tutte le cose che vi ho detto vi deve rimanere in chiusura come atteggiamento questa cosa cioè le persone che costruiscono aziende di successo vengono pagate principalmente per la loro tolleranza al dolore quindi non noi non siamo pagati in realtà per il nostro talento e non siamo pagati per le nostre competenze noi veniamo pagati per la nostra tolleranza al dolore cosa significa? significa ragazzi che fare l'imprenditore è dura ok e tutti i giorni in tutte le cose che vi ho detto ok in questa puntata voi avrete delle difficoltà per farlo perché i collaboratori non vi ascolteranno perché ci saranno dei problemi perché i fornitori vi daranno dei problemi perché i clienti vi faranno bestemmiare perché quello della banca vi porterà dei problemi perché il commercialista vi dirà che non tornano delle cose perché la gente vi criticherà provate a andare quando voi vi aprirete ragazzi sapete perché moltissime persone fanno fatica ad aprirsi al marketing per esempio al web marketing perché appena voi fate impresa e cominciate a pubblicare delle cose andate sui social o che andate create la pagina provate a fare una sponsorizzata provate a vedere cosa succede qualcuno di voi lo sa ovviamente molti di voi lo sapranno la gente comincia a dire delle cose su di voi fuori di te cioè voi guardate le sponsorizzate la gente che vi accusa siete dei delinquenti tu sei un bastardo vaffanculo coglione vai a zappare tu sei un evasore fiscale tu la tua mamma c'è tutto così voi se non siete abituati a non avete una tolleranza voi spegnete tutto no 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 mi metto a cuccia e torno a stare fermo ok mi metto e la smetto quindi voi smettete di fare marketing perché perché fare marketing marketing significa esporsi al dolore ragazzi là fuori il mondo è pieno di pazzi non c'è argine cioè nei social quando voi li aprite ok quando voi aprite il marketing e fate le campagne indietro vi torna una serie di inflow cioè di commenti di cose eccetera eccetera la gente ve ne dice di ogni ok e più siete grandi cioè provate a pensare la gente impazzisce dice delle cose di ogni di me che non sono nessuno ok guardate adesso anche se vi stanno antipazzi però guardate i politici c'è le persone più famose sotto la loro pagina c'è scritto di ogni che poi sia il politico che vi sta simpatico il politico non vi sta simpatico cioè la gente dice delle cose che sarebbero tutti da mandare in galera ok ma sotto un calciatore sotto un imprenditore famoso guardate qualunque cosa scriva o dica o c'è un'intervista abbriatore che finisce sui social e sotto è delinquente assassino evasore cazzo è la bisca da giovane che è la pizzica tutto così ok bene fare impresa significa avere una tolleranza al dolore totale cioè tutte queste cose non vi devono squassare ok quindi non vi devono squassare i clienti non vi devono squassare i collaboratori non vi devono squassare i fornitori non vi deve squassare il fatto che per crescere sarete esposti al mondo e il mondo è fatto di tante bellissime persone ma che magari non commentano il mondo è fatto anche di persone invidiose brutte cattive rancorose ok con dei problemi psicologici gravi che vi vomiteranno addosso delle cose incredibili chiunque di voi ragazzi è una cosa normale chiunque di voi abbia fatto una sponsorizzata nella vita lo sa ok se non avete tolleranza al dolore voi smetterete di fare marketing quindi smetterete di crescere ok quindi la tolleranza al dolore noi veniamo pagati e guadagniamo in funzione alla tolleranza al dolore che abbiamo nel fare impresa nel tempo quindi serve la tech skin cioè sviluppare la pelle dura ok questo ragazzi è la lezione chiaramente non riusciamo a coprire tutta la filosofia di Dan sulla mentalità vincente ma questo è quello che vi serve ok per sapere tutte le cose di base ok quindi dalla programmazione personale a come applico queste cose in termini di atteggiamento in termini di mentalità in termini di personalità ora se c'è Moreno che si unisce a noi e ha visto che se c'è qualche domanda magari eccoci qua iniziamo con la prima buonasera ciao Frank cosa consiglia un ragazzo di 21 anni che vuole entrare nel mondo dell'imprenditoria oltre a acquisire le skill necessarie come il marketing eccetera nient'altro cioè vuoi entrare nel mondo dell'imprenditoria devi acquisire le skill necessarie fine cioè nel senso è voglio fare il chirurgo cosa mi consiglio oltre ad andare all'università e poi fare praticantato e niente cioè andare a fare l'università e poi fare il praticantato e per l'imprenditoria è uguale devi imparare a fare marketing devi imparare a conoscere i numeri devi imparare a relazionarti con le persone in determinata maniera quindi imparare a gestire le altre persone quello se vuoi che ti dia dei consigli fuori dagli schemi se devi partire a fare qualcosa per mettere sulla pellaccia dura non partire facendo l'imprenditore tanto sei giovanissimo hai 21 anni vai a fare il venditore per qualunque azienda e impara a prendere mille vaffanculo ok e ti viene la pellaccia ok poi pariteticamente vai a fare volontariato da qualche parte perché perché ti mette a contatto con le persone ti mette a contatto con delle persone con del disagio ti mette a contatto con delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate ti mette a contatto con delle persone che hanno bisogno di essere gestite devi gestire delle persone problematiche in tanti in tanti casi in tanti momenti queste due cose ti aiuteranno a sviluppare quel tipo di atteggiamento di carattere di mentalità vincente che ti serve due cose sono volontariato e fare il venditore quando sei pronto contemporaneamente studia ok a un certo momento dici cavolo ok ce l'ho ok e posso cominciare poi ti servirà chiaramente non dovrai partire da solo nel senso che partire da solo a meno che tu non faccia delle cose a livello piccolo e personale è difficile devi cercare prima di partire devi cercare dei soci cerca di creare non abbiate fretta ragazzi siete giovani cercatevi un team cioè fatevi conoscere ok frequentate i circoli frequentate i social ok state online voi siete a 21 anni sei più bravo di me in realtà con tutte queste diavolerie quindi incontra la gente parla con della gente vai nei gruppi su facebook non so dove andate voi su tiktok avrete tutta una serie di chat su telegram io sono vecchio per queste cose però so che persone con la passione di determinate cose i giovani sanno incontrarsi molto meglio di noi altri vecchi rincoglioniti e quindi mettiti in contatto con tante persone guardale bene non fare le cose però conoscile e piano piano imparerai a riconoscere la gente che come te ha un sogno e cerca le persone con delle competenze complementari magari non c'è bisogno che impari tutto magari a te piace vendere perché l'hai imparato a fare rimani a essere per esempio il primo venditore dell'azienda o il direttore trovati qualcuno che è bravino con la lead generation e uno bravo a guardare i numeri oppure a te piace la lead generation prenditi uno bravino con i numeri e qualcuno che vada a vendere cioè nel senso un mini team ragazzi deve partire vi serve quindi non partite semplicemente non è che siete l'ultima spiaggia cioè fate le cose quando è il momento giusto imparate a lavorare con le persone a conoscere le persone ok fate delle piccole cose insieme e poi se sono rose fioriranno ok quindi prima di investire in un'impresa volontariato vendita e stai sui social ma in maniera produttiva cioè per conoscere persone affini a te come mentalità ok adesso indosso il casco e passiamo alla prossima oddio allora Frank so che tutti i settori sono uguali però io ho un'azienda di moda e vendo i negozi basta però al però io tolgo la domanda non c'è però come fare marketing a risposta diretta in un settore così istituzionale di immagine come questo come in tutti gli altri settori fai marketing a risposta diretta perché nella tua malcomprensione esiste il concetto che il marketing a risposta diretta è una roba coatta magari no ma non è così cioè il marketing istituzionale è un'idiozia cioè non è che è una cosa buona il fatto che è istituzionale di immagine buona io non è che se faccio marketing a risposta diretta è uè figo cazzo comprate compro figa vai non è così ok cioè posso scrivere tranquillamente in un italiano comunque elegante ok però ha risposta diretta quindi adatto cioè non è che è tutto sbragato ragazzi non è che dovete prendere perché il problema ragazzi se aveste visto la diretta e la potete riguardare insomma l'episodio per esempio sugli infomercial quindi sulle televendite io ho spiegato perché voi avete questa ritrosia perché perché noi vecchi abbiamo in testa come vi avevo detto Vanna Marchi il baffo ok Sergio quello dell'oro di Valenza eccetera eccetera quindi una roba assolutamente coatta in termini di televendita voi magari che siete più giovani avete in testa come marketing a risposta diretta i coglioni ragazzini arroganti da Dubai che fanno eh figa diventa ricco con qua fai l'affiliazione io divento sei figo Dubai allora è chiaro che se voi pensate al direct response marketing a sti ragazzini coatti mezzi malati di mente io capisco Francesco che abbia dei dubbi ma ti assicuro che se vieni a per esempio a fare scrivenda ti insegniamo a fare un copy di un'eleganza e di una bellezza che funziona assolutamente anche nel tuo settore quindi stavo scherzando inizio capisco la tua perplessità ma deriva dal fatto che tu associ il marketing a risposta diretta a personaggi sbagliati ok e quindi la tua perplessità è giustificata ma la risposta è quella che ti ho dato cioè si può fare tranquillamente con il giusto stile sempre risposta diretta perfetto andiamo avanti con Enrico dice se il collaboratore è bravo nel suo ma ha forti carenze in alto quindi o intervieni o cambia lo stile dell'azienda come si devi comportare e non è in italiano sta domanda cioè nel senso se il collaboratore è bravo nel suo ma ha forti carenze in alto e quindi o intervieni o cambia stile dell'azienda non significa niente in italiano sì credo che voglia dire lo sacrifico oppure mi piego perché lui ha forti carenze in alto Enrico se non mi spieghi in che cosa ha forti carenze è un problema cioè nel senso se è bravo nel suo ma è una testa di cazzo deve andare fuori se è bravo nel suo ma gli mancano altre competenze gliele posso insegnare se ha un problema di atteggiamento ok la regola nostra interna è certo che devo prendere una persona capace come ho detto prima ma noi prendiamo le persone per l'atteggiamento e poi le competenze le deve avere o lo formiamo sulle competenze quando hai una persona che addirittura proprio perché è brava fa la testa di cazzo perché sa di essere indispensabile deve andare fuori dai coglioni cioè non è che io prendo perché sennò io esagero sempre con delle iperboli per spiegare poi la gente magari mi prende la lettera e mi fra intende il concetto è te lo dico uno che devi essere più carino puntuale più gentile con i clienti con i collaboratori te lo dico due te lo dico tre alla quarta ti do un calcio in culo ok quindi noi come azienda siamo sempre in selezione perché la gente deve sapere che ti devi comportare bene a vita ok cioè voi avete segnatevi questa cosa voi in azienda avete un problema io lo so perché lavoro nelle aziende ragazzi da quando sono ragazzi avete un problema che la gente in azienda degrada la maggior parte non tutti ma la gente in azienda tende a degradare cosa significa che più uno invecchia più voi lo lasciate cioè più voi non aumentate il reparto quindi questo collaboratore si sente l'unico depositario della legge della verità delle informazioni in quel settore più questa persona nel tempo sentendosi l'unico e figo diventa arrogante quindi non arriva più puntuale comincia a fare un po' quel cazzo cioè è bravo la cosa le fa non è che non lavora però si mette delle medaglie addosso e ha degli atteggiamenti di superiorità nei confronti degli altri in azienda al contrario cioè più sei anziano più devi cagare anelli di brillanti su un piatto di argente perché devi essere da esempio a quelli che arrivano quindi da noi cioè più sei anziano diventi anziano in realtà perché diventi più allineato all'azienda non meno solo che glielo devi spiegare dal primo giorno questa cosa alle persone quando sono in azienda ok cioè che qui tu sali di grado più ti metti dritto non più te la tiri ok più te la tiri più prendi dei calci in culo ma noi calci in culo ne diamo molto pochi perché normalmente te ne do uno e quello basta per sempre ok quindi se il problema Enrico è nell'atteggiamento glielo dico uno non ha capito glielo dico due al terzo lo mando fuori però devi metterti in selezione cioè il problema è anche che non devi tenere l'azienda sotto ricatto cioè se tu non stai mai in selezione è chiaro è questo come lo mando via dopo come faccio è ma il vecchio ti ho detto che devi stare in selezione costantemente però perché l'azienda deve crescere se rimanete piccoli sarete sempre sotto scacco e sotto ricatto di questi caporaletti che si approfittano e poi l'azienda è loro perché se non gli potete parlare non gli potete dire un cazzo perché se no questo si mette in sciopero o rompe i coglioni allora vuol dire che l'azienda è loro è molto semplice quindi voi siete intrappolati dentro un'azienda che però gestita da un altro perché se questo quando dice no e no allora l'azienda è sua e non dovete stare attenti gli hai risposto già in parte anche alla seconda domanda dice cosa ne pensi del rischio che dopo aver imparato da te la risorsa via un suo business con gli strumenti imparati da te no lascialo coglione così rimani in azienda da te non sa fare un cazzo e ti fa danni non lo formare cioè lascialo che stai in azienda da te senza saper fare un cazzo è ovvio che ci sia il rischio ma il problema è che se uno può copiarti l'azienda Enrico la tua è un'azienda di merda perché tu puoi copiare solo un'azienda di cinque stronzi tu come fai a copiare la mia azienda non puoi cioè uno va via sì si mette lì e fa il guru ok sì ma puoi fare qualcosina per l'amore di Dio ma non potrai mai copiare la mia azienda ok quindi per me copia la Apple copia Coca Cola cioè cosa vuol dire se io ti do domani la formula della Coca Cola e tu esci e cosa fai vai a fartela in bottiglia e a chi la vendi e cosa fai cosa deve andare a fare da solo questa persona sa fare marketing da solo ok sa fare marketing sa vende fa tutto da solo voi siete in mille persone siete in cento persone e lui da solo esce e ti fa concorrenza ma certo perché se sei un bottegaio all'italiana con l'aziendina di tre artigiani quello va via e dice invece che segare il legno per te me lo seguo per i cazzi miei mi porto via cinque clienti e sono ricco uguale ma è perché siete un'aziendina di merda sempre senza offesa cioè cercando di spiegare il concetto ok crescete e non avete problema perfetto andiamo avanti con Paolo dice un suo amico sta lanciando una spa nel sud Italia il problema è che ha il terrore dice di farsi pagare ha paura di sparare la cifra dice lui che consiglio gli puoi dare di non farlo perché non può fare l'imprenditore la prima caratteristica di un imprenditore è la mentalità vincente è farmi pagare se tu parti che ti caghi addosso a battere un prezzo o a chiedere i soldi non fare impresa finirà in un bagno di sangue finirà malissimo no giuro ah Frank esagera sempre no no non sto esagerando non deve aprire non deve aprire fare l'imprenditore non è il suo ok che usi le sue qualità per fare il direttore magari dell'SPA gestita da un imprenditore vero lui non può farlo non c'è nessun consiglio il consiglio vi posso dare non fare l'imprenditore perché non fa per te o te la fai passare o non fa per te fatela passare se vuoi farlo se no non farlo perfetto andiamo avanti con Gabriele dice cosa ne pensi del business dei concessionari di auto ad esempio tu come uomo di business ci investiresti? concessionari di auto c'è tipo multimarca perché noi c'è cambia ragazzi concessionario di auto non vuol dire niente nel senso che un conto che mi dicono prendi la concessionaria di auto della Ferrari ci investiresti domani mattina ok apri un concessionario di auto multimarca con la Skoda l'Audi usate non ho le competenze ok magari ci sono delle persone che sono bravissime per esempio nell'acquistare bene l'usato quindi se io fossi molto skillato perché ragazzi non riesco a rispondere bene perché concessionario di auto come capite non vuol dire niente di sicuro non aprirei un concessionario generico multimarca a cavolo ok sicuramente no aprirei un concessionario sicuramente di un brand di prestigio è ovvio se mi danno un certo tipo di escusi ci posso pensare o se avessi o se avessi qualcuno con me che ha delle skill particolari per acquistare delle auto particolari ok a prezzi molto buoni saperle scegliere saperle rivendere eventualmente quello è un tipo di business che valuterei che valuterei assolutamente sì perfetto quello un po' generalista no ma come nessun business non è il problema del concessionario di auto non valuterei nessun business un po' l'acqua di rosa ok Umberto ci chiede ciao Frank cosa consiglia una persona di 36 anni che vuol lanciare un progetto ma non ha abbastanza budget e i finanziamenti dovrebbero andare allora il problema è che io guarderei bene in realtà prima di lanciare il progetto Umberto e prima di indebitarmi finanziarmi o chiedere soldi ad altri che il mio che io le cose le sappia fare davvero cioè nel senso molta gente si lancia a me mancano solo i soldi ma magari non ti mancano solo i soldi magari sei uno stronzo da solo e sta roba parte ma non hai la struttura cioè non hai non hai le competenze parti e non sai fare marketing parti e non sai scrivere copywriting parti e non sai gestire i numeri parti e non sai davvero cioè nella tua testa questo progetto perché nasce da una tua passione da un hobby secondo te gira ma trasformare una tua competenza vicino all'obbismo in un business andando a chiedere dei soldi ad altri è un gioco diverso cioè ragazzi voi dovete mettervi in testa che le aziende nascono con i soldi e con le persone ok non col fatto che voi siate competenti tecnicamente a fare qualcosa perché vi mancano tutte le skill imprenditoriali quindi prima mi tocca male ma mi tocca farlo cioè faccio autopromozione cioè io prima farei i corsi metodo merenda capisco che cosa devo imparare lo imparo e capisco che cosa mi manca veramente per saper fare impresa quando mi sono svegliato cioè ho capito effettivamente innanzitutto ho imparato tutte le cose che devo imparare ma capisco in termini di risorse cosa mi manca realmente che normalmente non sono i soldi allora poi decido di recuperare queste risorse e di trovare ti faccio un esempio scemo se tu fossi veramente un imprenditore in grado di presentarmi un business plan che stesse in piedi perché tu hai delle competenze imprenditoriali i soldi si trovano su perché te li do io io ho soldi in esubero che non so dove mettere ok quindi posso finanziare qualunque business io ho dei non ci parlo con te perché ho dei seri dubbi che tu sappia fare quello che dici di saper fare secondo me se non ti conosco Roberto magari sei bravissimo però in generale è molto probabile che tu sia un bravo tecnico ma non abbia le competenze imprenditoriali che servono se io ti valutassi come professore nelle varie materie il metodo merenda secondo me tu prenderesti 9-10 nel reparto tecnico e in tutti gli altri probabilmente hai delle carenze perché se non hai soldi vuol dire che non hai nemmeno le persone la struttura non hai niente mi stai chiedendo ho un'azienda vorrei crescere ma mi manca il budget e quindi mi consigli di farmi finanziare direi certo perché vuol dire che il prototipo funziona ok e quindi di conseguenza ti mancano solo i soldi io temo che a te mancano la maggior parte di voi ragazzi ha una mal percezione su che cosa serve sapere e quali risorse servono per fare impresa tutti pensiate no è una grande idea se solo avessi soldi ma vi sbagliate la maggior parte di voi in realtà ha dei problemi di skill e di risorse che non sapete nemmeno che vi mancano ok quindi dovreste venire a fare i corsi il metodo merenda nasce per quello ragazzi cioè nasce per supplire a questo tipo di ignoranza è il fatto che a scuola cioè voi non potete saper fare ve lo dico proprio non è promozione però mi tocca dirvelo voi le cose che vi servono per fare impresa non potete saperle fare perché al massimo avete imparato copiando uno per il quale avete lavorato a scuola queste cose non le insegnano e se non avete fatto tutti i corsi con noi le cose che vi servono a saper fare non potete averle fatte perché avete fatto il percorso tutto da commercialista poi nella vita avete fatto dieci anni il venditore poi avete fatto l'esperto ma non le avete fatte queste esperienze nella vita quindi voi quello che vi serve per fare impresa non ce l'avete potete accelerare questa cosa in sei mesi venendo a fare i corsi quello sì perfetto scusate scusate per la pubblicità però ve lo dico insomma con il cuore in mano Roberto ci dice Roberto dice sono entrata quindi forse sono entrata da poco nell'azienda di famiglia che ha sempre lavorato così come far capire loro che i tempi sono cambiati e che bisogna fare marketing per evolversi no Roberto capisco la domanda la domanda è sbagliata cioè purtroppo queste cose funzionano solo dove c'è una folla affamata cioè nel senso te lo dico proprio fuori dai denti è una domanda che mi fate tutti allora uno io non entrerei mai nella mia vita ve lo dico proprio dal cuore nell'azienda di famiglia io ho le uniche persone che conosco ok che hanno avuto successo nell'azienda di famiglia è gente con la mentalità vincente ed è gente capace cioè nel senso per esempio non so Giovanni Fiorini da Fiorina S.P.A campione del mondo ha fatto take over però dell'azienda del padre nel senso gestisco io si è preso la responsabilità gli oneri gli onori eccetera eccetera ha preso l'azienda siamo conosciuti poi è un campione del mondo l'ha rilanciata ok e fa dei numeri che sono sono veramente incredibili quest'anno mi sembra andiamo per i 90 milioni con Giovanni una roba del genere è una cosa straordinaria ok oppure non so i fratelli Marco Marco Antoni ok lui aveva il padre che gli ha detto io so fare il tecnico so fare le zanzariere ok mi fido di voi pensateci voi a questa cosa io non capirò mai il marketing non mi ci voglio nemmeno mettere a 70 anni penso che abbia Sergio non so l'età che ha ok è una persona veramente straordinaria quindi l'atteggiamento a monte ok è ci credo pensateci voi però perché io non ok ma se tu arrivi in azienda e c'è un atteggiamento chiuso e ostile ah non c'è modo cioè non è ah Frank aiutami a spiegare non c'è modo è come vendere qualcosa a qualcuno che non lo vuole comprare riusciresti a vendere un iPhone che è una cosa bellissima a uno che la Apple gli sta sul cazzo no perché per principio non lo vuole fare ok quindi io a meno che non fossero i miei genitori a tirarmi dentro con vorremmo che tu portassi sviluppo l'azienda facendo queste cose non entrerei mai a lavorare in azienda di famiglia perché l'ho vista mille volte sarà una vita di sofferenze e di mandare giù bocconi di merda per tutta la vita sarai sempre il figlio la figlia cogliona che in realtà non capisce un cazzo che in realtà vuole fare delle cose ma non sa come funziona noi questa azienda l'abbiamo creata cioè ti tratteranno così per tutta la vita cioè se sei sempre stato stata considerata il figlio è un po' coglione quello che ti hanno tenuto all'università a studiare perché non sei particolare e alla fine vedendo che non riuscivi a farti una carriera a trovare un lavoro ti hanno tirato in azienda di famiglia funziona molto male le ho viste finire malissimo da sempre queste cose quindi la risposta è quella che ti ho dato purtroppo ce ne sono altre due di due donne uguali sono entrate c'è la stessa identica storia non è entrata nell'azienda di famiglia perfetto Benny ci chiede in questo periodo di inflazione si tiene la recessione cosa pensi dovrebbero fare le aziende per reggere il botto cercare di consolidare il brand cercare di consolidare il brand è una frase una super cazzola non vuol dire niente in realtà ti rispondo con quello che dice Warren Buffett al riguardo cioè nel senso nei periodi di inflazione l'unica cosa sulla quale investire sono le proprie skill per migliorare la propria azienda cioè la propria formazione e migliorare la propria struttura cioè significa che in realtà un imprenditore non soffre l'inflazione normalmente perché è vero che per lui magari le materie prime i fornitori gli costano di più ma l'imprenditore se vuole sopravvivere deve scaricare l'inflazione sul cliente finale non c'è altro perché sennò chiudi ok quindi l'inflazione ragazzi ce l'hanno i dipendenti che il loro stipendio non si muove ce l'hanno i pensionati ok non ce l'ha l'imprenditore a meno che l'imprenditore non si cagli ad osso ad alzare i prezzi e gli dico no io però a botte di 10% l'anno dopo due anni ti sei mangiato il margine e sei fallito quindi o giri l'inflazione sul cliente finale o non sopravvivi ok quindi ciò in cui devi investire è diventare un imprenditore più capace cioè imparare a fare più marketing ok imparare ad acquisire più clienti come si fa con l'inflazione devi acquisire più clienti ok imparare a fare marketing imparare a fare le generation avere più clienti imparare l'autorità vendere a un prezzo più alto tutte le cose delle quali abbiamo parlato anche nella puntata scorso ok questo è perfetto Giorgio ci chiede sempre molto interessante qual è il punto tuo di vista sul far entrare i fondi per accelerare la scalabilità del business cioè questo dall'altra parte dice c'è da considerare di perdere la libertà come imprenditore e persona ah non è come non c'è il mio punto di vista c'è l'esperienza c'è com'è è una stronzata mediamente cioè nel senso che i fondi se sono intromissivi come sono il 99% dei casi l'azienda smette di girare come dovrebbe girare perché io se non sono più padrone a casa mia e devo cominciare a negoziare tutte le volte le cose che devo fare gli investimenti è un disastro quindi cioè non è che c'è la mia opinione ragazzi che non va bene è una stronzata da fare ok a meno che io cioè non faccio entrare un fondo ve la vendo datemi i soldi e mi tolgo dai coglioni oppure vi accompagno facendo il manager ai vostri ordini per due anni tre anni e poi però mi liquidate e mi tolgo dalle palle ma non starei mai in un'azienda posseduta cioè con dentro un fondo perché non sono più un imprenditore divento un manager comunque alle loro dipendenze allora se devo fare un manager alle loro dipendenze facciamo un contratto con la transizione fra tre anni ok io faccio il cagnolino faccio quello che mi dite così non litighiamo eccetera eccetera però fra tre anni mi liquidate tutto e mi tolgo dai coglioni e io sono andato in pensione questo è l'unico accordo che io posso fare con un fondo altrimenti no di trovare altre formule di finanziamento non è il mio punto di vista non ci sono altri punti di vista che il mio perché non è il mio è com'è la realtà quando fai queste cose tutto lì perfetto andiamo a a mamma e spacleopatra e dice ho un bagno turco inaugurato a novembre scorso sono un centro benessere estetico e non riesco a metterlo in piedi come si deve secondo te quanto tempo ci vuole per vedere il frutto di questo investimento? ah per vedere il frutto di questo investimento fai prima a fallire cioè nel senso che o ti metti a fare marketing e impari a acquisire clienti in maniera prevedibile tutti i giorni o se speri che Gesù Cristo ti mandi clienti per il passaparola può funzionare una volta su cento negli altri 99 casi i debiti correranno di più dei tuoi introiti e quindi fallirai quindi se ti metti se vieni a fare i corsi ok ti iscrivi ai corsi impari a fare marketing impari a vendere eccetera eccetera la risolviamo immediatamente subito ok se stai lì pregando il signore che la situazione si risolve che i clienti vengano non capisco perché se ancora non hai capito che devi imparare a fare marketing e quindi acquisire clienti mai mi dispiace ragazzi sembra un po' caustico però Dan è un po' così io sono meno cattivo di lui Dan vi risponderebbe veramente male cioè nel senso che cazzo di domanda è la capisco perché magari è una persona che la prima volta che mi vede mi sente però per tutti gli altri quindi lei voglio rispondere seriamente però per tutti gli altri che cazzo di domanda è per lei è guarda non so il nome nemmeno non sto parlando di un uomo o una donna ma insomma ok guarda che c'è modo di far partire le attività che è semplicemente imparare a gestirle partendo dal marketing e dall'acquisizione dei clienti facciamo un funnel facciamo le campagne vieni ok facciamo una start up guardiamo i numeri mettiamo giù il primo funnel serve un minimo di investimento tempo una settimana che da quando abbiamo fatto partire le campagne arrivano i clienti come facciamo con tutti i nostri clienti mentre studi un po' per imparare anche a gestirla perché il problema di aprire il bagno turco non è pulire il bagno turco e mandarla in temperatura e accogliere la gente è gestirla come un'impresa con un'attività perfetto Maria Grazia Ferrari nel settore dell'estetica cosa fa la differenza la specializzazione secondo te oddio è una domanda molto secca ma ragazzi è interessante allora in realtà è il classico concetto nel senso che non c'è una cosa non c'è la bacchetta magica cioè quando voi mi chiedete mi dici la cosa in realtà il business è qualcosa di complesso cioè tutto deve funzionare insieme ok tutto deve funzionare insieme quindi nel settore dell'estetica funziona non tanto di per sé la specializzazione non è detto bisognerebbe analizzare il centro eccetera eccetera ma il suo posizionamento certamente che potrebbe nascere dalla specializzazione ma alcune volte non è detto il centro estetico può non dipendere necessariamente dalla specializzazione potrebbe essere un focus un posizionamento sul target o sullo stile o magari posizionato per il lusso e magari fare servizi anche lì dipende quindi sto assolutamente inventando dipende in particolare quindi poi dalla mia capacità di fare lead generation cioè se siete bravissimi ragazzi a fare mani e piedi il manicure il piedicure fare i massaggi tutte queste cose ma non sapete fare marketing i clienti non arrivano quindi cioè il compito di un imprenditore ragazzi non è svolgere il lavoro tecnico all'interno del centro e gestire i collaboratori il compito dell'imprenditore innanzitutto è avere la fila di persone che vogliono entrare nel mio centro estetico ma in qualunque altro business quindi quando tu Maria Grazia ti sarai trasformata in una persona dopo aver deciso un certo tipo di posizionamento capace di ok far entrare clienti nel tuo centro o ti rivolgerai magari a noi come persone specializzate che ti possono dare una mano questo succederà poi ci sono altri aspetti sicuramente cioè tutto conta la capacità di selezionare ragazze in gamba motivate che siano brave a eseguire per esempio tecnicamente i trattamenti che siano gentili con i clienti che siano connesse e chi si occupa di questa cosa che sia anche bravo a vendere perché in realtà noi abbiamo quindi capire come creare un team all'interno del centro estetico quando sei piccolo bisogna un po' arrangiarsi poi bisogna avere delle persone dedicate cioè nel senso che non basta solo il marketing poi le persone bisogna vendere gli pacchetti bisogna sapere di rivendere i clienti vanno inseguiti quindi servono delle skill proprio da venditore da venditrice eccetera eccetera la capacità quindi di gestire il team diventa più importante della tua capacità oggi per esempio in cabina è un pochino saper guardare i numeri chiaramente perché se non sai guardare cioè fare tutto ma i numeri non li sai guardare saltiamo per aria quindi è tutto importante ok la capacità di saper fare marketing la capacità di svolgere bene il lavoro la capacità di accogliere il cliente e di vendere sono le cose fondamentali tutte insieme fanno la differenza in un centro estetico perché se ne manca una ti lascio immaginare che è un tavolo in un al quale manca una gamba è un peccato esatto allora buonasera con quale corso metodo merenda inizieresti? che sono stata una serie di domande come le mettiamo in fila ok allora in realtà dipende ragazzi ci sono alcune situazioni per rispondervi non c'è il corso metodo merenda col quale partire nel senso che posto che uno per fare impresa sinceramente cioè tutti i corsi di base quantomeno è un percorso di studi che devi fare non c'è una roba che puoi non sapere è come avere un tavolo che manca una gamba ok però la domanda la capisco intelligente ma vi voglio rispondere nel senso che ognuno di voi ragazzi ha delle priorità che sono diverse rispetto a quelle degli altri quindi noi normalmente cosa facciamo ragazzi fissiamo un appuntamento con un tutor che vi fa una consulenza gratuita iniziale quindi vi fa invece che volervi vendere qualcosa vi fa una lunga serie di domande vi rompete un po' le palle vi conoscete diventate un po' amici vi confidate eccetera eccetera alla luce delle priorità che emergono il tutor vi dice ok parti con questo se vi fidate tranquilli fidatevi partite col corso giusto il tutor non ha nessun interesse a farvi partire con un corso sbagliato non cambia niente costano uguali nella media non ci cambia niente farvi partire con uno piuttosto che con quell'altro non c'è il corso più sì qualcuno è un po' diverso ma nella media non cambia niente quindi il modo corretto angelo è rivolgersi al tutor sottoporsi conoscersi sottoporsi alla consulenza e il tutor dice ok partiamo da marketing merenda partiamo da venditore vincente partiamo da red e referral perché per te è importante partiamo da fantastic funnel non lo so non lo sa nessuno finché non abbiamo parlato con voi ok perfetto allora abbiamo una domanda di una vecchia conoscenza Riccardo Riccardo è una persecuzione che equilibrio consigli Riccardo è un amico stiamo scherzando interno che equilibrio consigli da avere fra funnel evergreen e lanci a tempo limitato i primi mettono in leva nel tempo la creazione dei materiali ma i secondi sono più esplosivi nei numeri come mi regolo su quale privilegiare ottima domanda Riccardo questa è una domanda intelligente da partiti scherzi non perché Riccardo è un amico non è che gli voglio fare i complimenti sa che non ne ha bisogno ha tutta la mia stima e il mio apprezzamento ma in realtà è solo per farvi capire la differenza di ragionamento di intelligenza di una domanda tra uno studente avanzato che fa già tutte queste cose quindi mi fa dei ragionamenti a un livello assolutamente sofisticato e le domande base cosa pensi che debba fare capite che c'è una differenza tra voi e un imprenditore vero che ha studiato con noi ok la risposta qui è che in realtà il funnel evergreen cioè in realtà tu potresti andare se hai tempo a lanci a tempo limitato costantemente cioè nel senso potresti essere sempre sotto lancio però ti devo rispondere in maniera da evitare di fare dei danni cioè non è il tuo caso secondo me però lo dico a beneficio di tutti gli altri ci sono dei casi che conosco e non faccio nomi e non dirò settori perché non mi piace io non faccio mai nomi di nessuno ok e dove la persona teoricamente ha capito quello che dico però nell'applicazione magari poi si è rivolta ad altre persone che non sono proprio io non è proprio Moreno e ha fatto delle cazzate cioè nel senso aveva questo shop cioè nel senso questa attività dove vendere attraverso evergreen una serie di prodotti poi cosa succedeva che l'attività è fallito cioè non ha mai fatto un euro di utile quindi praticamente è mezzanato in fallimento perché perché era tutto un cazzo di lancio cioè c'era il lancio con il bonus per Natale poi c'era l'offerta di Carnevale poi c'era quella di San Valentino poi c'era quella per la festa della donna poi c'era quella per la festa della mamma poi c'era il tutto fuori per agosto poi c'era quella e quindi cazzo le clienti si abituavano che non compravano mai a prezzo pieno nel senso che il prezzo pieno non serviva niente a loro bastava aspettare il mese successivo due mesi dopo e il Black Friday e quindi aspettavano sempre a comprare a mega sconti queste attività ok questo è il modo stupido di capire il metodo merenda non sei tu non c'entra niente per darti la risposta che so che tu capisci cioè nel senso è se sono cose scorrelate quanto voglio ok cioè sono funnel nuovi diversi su diversi angoli lo attacco quanto voglio se invece sono lanci modello Black Friday ripetuti più volte sappiate che questo è dannoso nei confronti a me non mi avete mai visto fare queste cose per un semplice motivo che se no la gente si incazza ad agosto tutti i miei corsi al 50% in meno e io stronzo che l'ho comprato a luglio sono coglione che l'ho pagato a prezzo pieno cioè quindi i lanci devono essere delle cose speciali io faccio il lancio adesso della membership di Dan di Marketing Saloon ok bene ma perché è un one shot ok non è che dopo la gente lo sta comprando a prezzo pieno no a tutti tutta la collezione dell'anno scorso a 50 euro vaffanculo io che ho pagato tutto a prezzo ok quindi l'equilibrio in realtà deriva da che cosa lanci quindi funnel evergreen sempre se i funnel a lancio a tempo limitato si sovrappongono al funnel evergreen attenzione perché più ne fai più danneggi il brand più fai incazzare i clienti più svaluti in realtà la percezione dell'azienda nell'altro caso invece lì che quanti ne vuoi gioca quindi vedi tu come giocare tra questi due concetti perfetto ultima domanda con un novizissimo ragazzo molto giovane ho 22 anni ho un'azienda di outdoor design che progetta e realizza giardini sono in una fase di stallo e non capisco bene da dove partire per migliorarmi e hai 22 anni sei bravissimo innanzitutto perché ho 22 anni non mi ricordo neanche cosa no lavoravo però nel senso ok benissimo la cosa che puoi fare è viene al kick off quindi senti il tutor iscriviti al circolo degli imprenditori che è all'interno al kick off che è il primo nostro corso che praticamente è gratuito che nel senso che è un corso di abbonamento vieni anche al kick off e al kick off ti chiarirai le idee perché al kick off spieghiamo esattamente che non è la televendita cioè nel senso ok veramente spieghiamo tutte le basi dell'azienda e lì parlando anche col tutor decideremo da che punto devi partire molto probabilmente adesso senza bisogno di normalmente si parte da imparare a fare clienti quindi imparare a creare il primo funnel diciamo ok se proprio ti dovessi rispondere direttamente fuori dai denti però vieni al kick off cioè nel senso se non è un ragazzino non costa niente immagino che te lo possa permettere insomma perché è un investimento minimo e già con quello tu hai risolto la vita ok nella mia idea dovremmo imparare a creare il primo funnel ma non penso sia una cosa particolarmente complessa poi più siete giovani più siete svegli su queste cose quindi problemi zero siamo noi vecchi che siamo rincoglioniti che non capiamo ma voi due click e mettete su una roba chiudiamo con una signora Stefania Salvatore che dice lei si sta mentalizzando per mettere in pratica le regole che dicevi all'inizio quindi un po' di propria bella dice si rischia di perdere i clienti se si mettono giù dure le regole che dicevi all'inizio non lo so io non ne ho persi ho fatto così con tutti in un certo momento ho detto non mi dovete rompere il cazzo e loro hanno capito magari si nel senso se avete dei clienti stronzi e permalosi che non capiscono magari li perdete quindi la risposta è fate le generation e cercate di non avere dei clienti stronzi e permalosi e stupidi che non capiscono che voi per lavorare non possiate essere al loro servizio quando loro chiamano devono aspettare mettersi in fila questa è la risposta vera so che non piace mai la risposta vera perché è complessa richiede ragione ma è così ma se il mio cliente il tuo cliente è uno stronzo io non ci voglio lavorare cioè il mio cliente non può decidere a casa mia quindi il suo ricatto e allora non ti do più i soldi i tuoi soldi te li puoi mettere nel culo io ti compro e sull'hotel dove ci sei te lo spiano ci faccio un prato ci metto le mucche di cartone così non cagano questa è la mia risposta e voi dovete vivere la vita così con la mentalità da vincente cioè nessuno può decidere a casa vostra voi dettate le regole nessuno si deve permettere di parlare sopra la mentalità vincente ragazzi è questa chi si caga ad osso un pernale poi mi lascia il cliente io non lo voglio un cliente se il cliente mi dice no ma io se tu non mi vaffanculo c'è la risposta vaffanculo proprio così in francese punto perfetto abbiamo finito abbiamo dato ok ragazzi abbiamo dato anche per questa puntata mi raccomando ok iscrivetevi se ancora non l'avete fatto a marketing saloon se ce l'ho qui ve lo faccio vedere ok si ce l'ho qua per chi non l'avesse visto c'è l'offerta ok marketing saloon punto com per chi è in diretta tra l'altro finisce questa sera si continua a essere in mente ma tutti i bonus ok del lancio finiscono oggi quindi per rispondere a Riccardo di prima nel lancio di disponibilità continuerà a essere venduto a un prezzo diverso chiaramente con dei meno bonus ok e spero che vi sia piaciuta in realtà spero in realtà che vi sia stata utile ho cercato di darvi veramente veramente tante cose e spero di vedervi le prossime volte connessi qualcuno di voi spero di vederlo in sala Mendrisio ok e ci vediamo la prossima volta alla prossima direzione ciao ciao